Buonasera a tutti. Avevamo quasi l'idea di fare una tavola rotonda, poi qualcuno si è aggiunto, ma anche perché devo dire siete tutti degli eroi o delle eroine in gran parte perché arrivare qui a Roma oggi è un'impresa epica. Sì, punto. Anch'io vengo in motorino se non a piedi e quindi in questo lo dico perché dubito, ma appunto siamo un po' su questo tema. C'è anche un altro elemento che rende colloquiale così la nostra, è che abbiamo pensato che in fondo questa potrebbe realmente essere una chiacchierata, una tavola rotonda, per pensare in futuro a qualcosa di più rilevante, un convegno, cioè mettere a fuoco i problemi da discutere insieme sul piano accademico, sul piano dell'impresa e così via, tornare a moda e quindi in modo molto informale. Allora io mi chiamo Romanelli e sono il direttore del direzione biografico degli italiani che è l'occasione di questo incontro. Per chi non lo sapesse, il direzione biografico degli italiani è un'opera della Treccani il cui primo volume è apparso nel 1960 e l'ultimo comparirà nel 2020. Quindi siamo poi alla conclusione che si è distribuita in molti anni e abbiamo pubblicato fino ad oggi 33.600 biografie, il che vuol dire che è un patrimonio, inutile dirlo, rilevantissimo, unico, perché ci sono naturalmente il National Biography Dictionary, ma di questa rilevanza e questa portata non appari. Ora è evidente che in questa data di tempo la sensibilità al tema delle biografie, alla rilevanza dei personaggi degli uomini e delle donne, ai settori di attività è radicalmente mutata nell'orizzonte culturale storico, cioè si è passati in una parola dall'idea molto ottocentesca degli uomini e delle donne illustri che hanno fatto la patria, ha un'immagine diversa dei soggetti rilevanti di qualche rilievo, magari anche dei banditi, non degli eroi, che in qualche modo contribuiscono a delineare il profilo di un paese. Quindi anche l'attenzione si è spostata, si è allargata verso settori non tradizionali che non sono quelli appunto degli umanisti e dei patrioti e dei combattenti, ma tante altre persone e qui entra ovviamente moda, fashion, design particolarmente novecentesca, anche se non, certamente la moda non riguarda soltanto il novecento come è ovvio, ma ha avuto uno slancio del tutto peculiare in Italia contemporanea. Allora, detto questo, in questo approccio a queste decine e migliaia di biografie, abbiamo pensato che un altro modo di rinnovare l'attenzione stereografica è quella di non immaginare soltanto dei medaglioni isolati, come vuole un dizionario che è alfabetico, ci stanno tanti medaglioni in ordine alfabetico, ma di richiamare l'attenzione su reti, connessioni, rapporti, grappoli, clusters di attività, di soggetti e da qui l'iniziativa di fare questi seminari in modo molto informale, come vedete intorno a un tavolo, che però prendono lo spunto da delle biografie, da una serie di biografie, tutt'altro che complete naturalmente, ma che messe l'uno accanto all'altro offrono l'occasione di fare un ritratto di un settore o di un'attività. Noi abbiamo pubblicato ad esempio le biografie di Mila Schoen, di Giancarlo Ferredi, di Emilio Pucci, Salvatore Ferragamo, di Rosa Genoni e così via, e tra l'altro sono tutti personaggi o quasi tutti i cui autori, i cui autrici sono presenti perché sono appunto in fondo chiamati a dire, beh, insomma, qual è la vostra esperienza. Nel caso della Genoni ancora non è uscito, ma sta uscendo, è pronta, insomma, il test è pronto, e gli altri sono pubblicati anche in delle serie, in una serie particolare che non si trova nei volumi alfabetici, ma anche in una serie solo online. Naturalmente ce ne sono molti altri. Di questi seminari che provano a ragionare intorno ad un insieme di voci, noi stiamo facendo in modo non sistematico, diversi. Ne abbiamo fatto uno su Roma Rinascimentale, sulla storia della scuola italiana, il prossimo tra un mese sarà sugli italiani in Cina nel lungo periodo, Matteo Ricci, i Polo. Insomma, voglio dire, nel momento in cui abbiamo delle singole voci che trattano, fanno il profilo di singoli personaggi, poi insomma mettiamo intorno a un tavolo gli autori e le autrici e vediamo anche dove va la ricerca, quali sono gli spunti, le novità che possono emergere. Ora, nel caso della moda italiana, ripeto, del Novecento, noi le voci, i personaggi che vi ho detto, a cominciare dalla Genoni, cronologicamente, è un'antesignana in qualche modo, fino a personaggi più recenti, e devo dire senza voler portare sfortuna a nessuno, presto ci sono molti anziani stilisti, molto anziani, che insomma, siccome il biografico biografa soltanto persone che non ci sono più, insomma, non vorrei, siamo pronti col coccodrillo, diciamo così, no, ma a parte le battute possono essere poco felici, indubbiamente il panorama si arricchisce di protagonisti che entreranno nella nostra storia. Ora, a partire dalla Genoni, la Genoni ha, come poi sentiremo meglio, ma quello che interessa a me, io non mi occupo personalmente di questo tema, la grande originalità di trasferire, di provare, di proporsi di trasferire da Parigi a Milano un centro propulsore della moda europea che a fine ottocento era tipicamente parigina. Quindi Milano, ma poi anche Firenze. A me dispiace che il biografico non abbia a suo tempo il biografato Giovanni Battista Giorgini, che nel 1951 nel Giardino di Torrigiani di Via di Serragli a Firenze, dove lui abitava c'è una bella lapide oggi messa al comune nel 2009, ha fatto, ha organizzato la first Italian high fashion show e qui ha messo insieme, ha organizzato come rilanciato con un trasferimento, ma insomma creando una nuova polarità fiorentina che è molto attiva ancora oggi. Questo mi, poi tra gli altri c'è Pucci naturalmente, allora mi fa venire a me osservatore esterno in mente un altro aspetto, che questo settore della creatività e dell'industria, dell'impresa creativa italiana, ha due matrici. Quella aristocratico internazionale, Pucci è un esempio tipico, ma anche Giorgini che trafficava con New York, come è per esempio per l'industria dell'automobile che è stata inventata dagli aristocratici, peraltro anche in Inghilterra, è però una componente invece artigianale proletaria, di cui la Genoni è massimo esempio, ma anche l'irpino Ferragamo che mette su un'impresa. È chiaro che si può dire che gli uni lavorano nell'alta moda, nel design e nello stile, gli altri nell'artigianato, la cuoieria, eccetera. Però sono i due pilastri in fondo, i due protagonisti poi di un grande Italian Style che si mescola. Ripeto, dicevo, mi dispiace che la biografica non abbia biografato Giorgini, in questa lunga storia decenni fa si era poco sensibili a questo tema. Tuttavia c'è Gucci, per esempio, nel biografico, uno dei pochi con la G, perché noi guardiamo all'ordine alfabetico naturalmente, però appunto c'è Gucci che anche lì, Gucci non è un immigrato, è un toscano, il padre era nell'industria della paglia, che è un'industria tipicamente fiorentina, e poi entra nella cuoieria, eccetera. Quindi ci sono queste due, come dire, queste due componenti, queste due origini che ho chiamato appunto aristocratica internazionale, ma del resto mi viene in mente che la Morris, la casa automobilistica inglese, è stata fatta perché William Morris era un meccanico, poi è diventato Lord Nuffield, era un meccanico e gli studenti aristocratici di Oxford si divertivano a fare le biciclette insieme a lui, cioè da questa fusione di due animi, quindi non è solo una cosa italiana, ma è una cosa sicuramente interessante per l'Italia. Bene, come vedete però la mia tentazione di storico, non di storico, è una moda di entrare in argomento, va contenuta e quindi cominciamo il nostro discorso tenendo presente un ordine che abbiamo concordato, che è un po' tematico cronologico, per il cui comincerà Eugenia Paolicelli che insegna of the Graduate Center of the University of New York e ha pubblicato i suoi libri sono sul tavolo, adesso ci parlerà di Eugenia Paolicelli e quindi abbiamo chiesto a lei di cominciare. La tavola rotonda non è organizzata da me, che la introduco, ma da Eugenia Paolicelli e da Maria Natalina Trivisano che è curatrice editoriale del portale Archivi della Moda del Novecento e quindi sono accanto a me le due, anzi io dovrei in qualche modo passo in seconda fila e lascio la parola a chi è competente. Prego. Grazie. Grazie mille professore Romanelli, sono molto contenta di essere qui e grazie di essere venuti. Come ha detto il professore Pocanzi, io sono un'italiana però sono da tantissimi anni negli Stati Uniti, quindi ho cominciato la mia carriera come italianista in Italian Studies e tantissimi anni fa ho cominciato a interessarmi della moda. Ecco, una cosa un po' strana quasi, infatti all'inizio sembrava quasi una specie di sfida all'interno diciamo della mio stesso dipartimento e così via. Ma voglio spiegare un attimino due cose che mi sembrano interessanti per poi poter parlare appunto dell'esempio anche di Rosa Genoni di cui parlerò in un momento. Questo interesse per la moda, per quanto mi riguarda, è nato da due nessi fondamentali. Uno era il mio interesse nel rapporto interdisciplinare tra le arti, la letteratura e le arti visive. Infatti su questo io poi mi ero occupata nell'ambito del mio PhD che ho fatto poi negli Stati Uniti e contemporaneamente mi interessava moltissimo guardare ai problemi dell'Italia e della costruzione dell'identità nazionale e soprattutto vederla da distante, cioè dall'estero, guardare e esaminare la mia cultura. In effetti ho scoperto tantissimo della mia stessa lingua e cultura proprio stando all'estero. E gli interessi, mi riferisco soprattutto a un saggio secondo me fondamentale, scritto da Giulio Bollati, il carattere nazionale degli italiani come invenzione. Penso che molti di voi conosciate questo saggio, anche gli scritti della Sapegno su Italia e italiani. Questi sono stati dei testi che mi hanno fatto molto pensare, indagare in maniera più approfondita questo discorso della costruzione dell'identità nazionale. E nel leggere, nell'andare avanti appunto nelle ricerche, si è sviluppato moltissimo questo interesse del rapporto tra moda e nazione. E quindi in essi, in cui non solo fattori che gli storici hanno trattato in maniera, diciamo, esauriente e continuano a trattare, cioè i movimenti politici, i movimenti culturali o estetici, ma la moda. Cioè la moda sembrava quasi esclusa da questo tipo di discorso che secondo me era fondamentale per capire come si formava questo rapporto di costruzione di una certa coscienza nazionale, identità nazionale. E quindi, nello scoprire i materiali, non ho fatto altro che mettere insieme un po' anche queste letture tra loro etereogenee e diverse, ma che per me erano importanti per chiarificare questo onesto e questo rapporto. E allora, l'esempio di cui parlo oggi, diciamo un esempio proprio paradigmatico di questo tipo di discorso, direi. E quindi mi fermo su quello, perché diciamo questo onesto è un po' presente in tutte le mie pubblicazioni, cioè diciamo è qualcosa che mi occupa molto l'interesse della mia ricerca. E allora, della Genoni io ho cominciato a interessarmi negli anni 90 quando stavo facendo la ricerca per il mio libro su fascismo, Fashion and the Fascism, che è uscito poi per la Berg nel 2004. E per me era importante capire meglio questo personaggio della Genoni e quindi iniziare un po' a studiarlo, perché la Genoni proponeva questo rapporto tra moda e nazione in maniera completamente diverso da come poi l'ha proposto il regime fascista. Come lo poneva la Genoni? Poneva appunto, come diceva il professor Ramanelli prima, di emancipare per certi versi l'Italia, non solo da un punto di vista, diciamo, politico. Mi domando se tutti sanno chi è. La Rosa Genoni? Sì, due parole forse dovrei anche... Ecco, sì, lo dico in un momento infatti, era solo per questa premessa, io adesso... Questo? Avanti? Non va, no? Perché infatti c'è. Dunque, Rosa Genoni era una... proveniva da una famiglia molto umile, 19 figli di cui appunto 12 poi riuscirono a sopravvivere e da bambina andò a lavorare a Milano, aveva solo 10 anni e io ho le diapositive che vorrei far vedere proprio su questo, se riusciamo a entrare. Ecco, sì, possiamo andare avanti. Ecco, sì, sì, sì. Questo è il mio saggio che è uscito nel 2015 su Rosa Genoni in italiano e in inglese. E quindi nasce nel 1867 e poi muore nel 1954 e quindi nasce in un momento abbastanza particolare per la storia d'Italia, no? Appena iniziato, diciamo, l'Italia diventa appunto nazione, non ha ancora, diciamo, finito il processo di unificazione. Come sappiamo Roma diventerà capitale d'Italia solo nel 1870. Quindi un momento estremamente importante e a dieci anni appunto lei si reca a Milano da una parente e lavora come piccinina, così li chiamano a Milano, cioè le bambine che andavano ad aiutare nelle sartorie e facevano un po' di tutto, tra cui anche consegnare gli abiti alle clienti. Questa è una foto, quando ho fatto appunto questo studio che è uscito nel 2015, ho fatto un po' di ricerca anche iconografica e questo viene dall'archivio Bertarelli di Milano ed è una foto dell'archivio civico dell'epoca, di una sarta che insieme alla sua piccinina vanno a consegnare il pacco a una cliente. E queste bambine, no scusate, queste bambine erano anche molto fragili perché insomma era quel lavoro minorile diremmo oggi, no? Cioè venivano un po' sfruttate ma anche insomma potevano essere insomma abusate in qualsiasi modo come si sa. Però appunto la cosa interessante nello studiare poi questo periodo, questa è una copertina della Domenica del Corriere in cui ci fu proprio una rivolta delle pescinine perché questo è anche il periodo in cui diciamo il movimento operaio, il movimento delle donne comincia diciamo tutto un... quindi per questo è interessante poi guardare a questi rapporti ma è anche un periodo di grande trasformazione della nascita di quello che si chiama il femminismo storico e qui ci sono le due madri diciamo del femminismo storico italiano, Anna Kulishoff e Anna Maria Mozzoni e Anna Kulishoff sarà un'amica intima della Geroni e tale rimarrà fino alla fine della sua vita. Quindi l'ambiente di Milano, un ambiente anche industrializzato, c'erano anche i grandi magazzini, no? Cioè come sappiamo quindi Milano era abbastanza all'avanguardia rispetto ad altre parti d'Italia ma già come città era una città che aveva appunto delle sartorie famose ma nonostante questo non c'era ancora quella coscienza di produrre quella che diciamo noi è della moda italiana, si era ancora un po' schiavi di copiare i Parigi, i figurini. Ma la cosa interessante di Rosa Genoni che lei approfitta in due occasioni della sua vita ad andare a Parigi e passare del tempo lì, imparare il francese, andare la sera a istruirsi. Quindi una donna che aveva molta iniziativa, aveva questa quindi insieme anche nell'ambito, comincia a frequentare l'ambito dei socialisti a Milano, quindi una serie di incroci interessanti di questa vita di questa donna. Cioè quindi una donna che non faceva solo una cosa, non pensava solo a cucire, ma aveva dei sogni, voleva realizzare delle cose più grandi, aveva veramente una visione, era una visionaria per certi versi. E quindi questo secondo me è stato una delle molle fondamentali a voler capire un po' di più e attraverso di lei anche l'Italia, cioè il dibattito che c'era in Italia in quegli anni perché poi ecco lei va naturalmente molto intelligente, sa che deve parlare il francese perché il francese è la lingua internazionale della moda, ma anche degli intellettuali, ecco, come oggi potrebbe essere l'inglese, no? Cioè è la lingua diciamo franca in cui ci si può, e quindi in questo è stata molto intelligente a capire, ma a imparare anche come si lavorava in Francia. Però con l'intenzione di tornare in Italia e di comunicare questo tipo di sapere, di know-how si direbbe in inglese, per cercare di produrre una moda italiana, il suo credere che l'Italia aveva un patrimonio enorme di cultura, ma non aveva quella coscienza nazionale, cioè quella coscienza di sé, di credere in queste possibilità. Era veramente un problema anche culturale e politico, ecco perché secondo me non si capisce questo se non si vedono poi le altre in essi e perché questo sforzo di questa donna che scrive tra l'altro su riviste, non di moda, lei scrive su riviste che sono la vita femminile, il marzocco, eccetera. Qui vorrei dire due cose, cioè questo ci va davanti, sono delle date fondamentali diciamo per capire il suo percorso. questo è la vetrina che lei prepara all'Expo di Milano del 1906 e naturalmente le arti decorative in questa Expo di Milano fu dedicato alle arti decorative 20.000 metri quadri, quindi molto spazio rispetto ad altri e gli storici hanno studiato anche questo, cioè esattamente questo 1906, ma bisogna anche ricordare che questa Expo fu dedicata alla mobilità e ai mezzi, infatti si fu finito il traforo del Sempione. C'è una poesia di Pascoli bellissima che proprio celebra, voleva dire la modernità, voleva dire che Milano si apriva all'Europa, voleva dire prendere un treno e andare direttamente a Parigi. Quindi un momento importante, quindi la moda, ecco qui è il punto, cioè quindi la moda è strettamente legata alle trasformazioni sociali, alle trasformazioni tecnologiche, agli avanzamenti culturali, non si può non leggere la moda avulsa da tutto il contesto. La cosa importante è che la Genoni sfida perché c'era solo la moda francese e quindi lei sfida creando questi modelli perché lei poi insegnò anche all'umanitaria a Milano dove creò anche un laboratorio di sartorie e le sue sarte, lei ha detto in vari momenti, voleva che fossero delle sarte artiste un po' come lei, cioè che conoscessero la cultura, ma non solo fossero brave a fare le artigiane. Quindi l'artigiano nell'idea di Genoni era che avesse una cultura, che potesse capire, potesse essere cosciente del proprio lavoro, perché questo è quello che fa la cultura e la storia. Quindi vinse il primo premio e la sua ispirazione fu l'ispirazione naturalmente al rinascimento, che è uno dei punti centrali diciamo della Genoni per rivisitazione del passato. E soprattutto direi il primo rinascimento, Botticelli, infatti c'è appunto lì vedete l'abito primavera e il mantello di corte ispirato ai disegni del Pisanello che si possono ammirare alla galleria del Palazzo Pitti a Firenze e sono stati recentemente anche restaurati. E c'è un altro momento, quindi il 1906, un'altra data importante per la Genoni e anche per capire questi nessi. Oggi molti stilisti di moda fanno molti rapporti tra moda e femminismo, vero? Se guardate i blog, ci sono le sfilate, c'è tutto questo parlare di queste cose. Ma che significa? E infatti è interessante perché la Genoni è stata una veramente, l'ha fatto per prima ed era un'italiana a porre queste questioni teoriche. Nessuno altro poneva queste questioni che io sappia in altri paesi. E quindi lei va come delegata nel primo congresso delle donne tenuto in Italia nel 1908 a Roma, delegata dell'umanitaria. E lei parlerà, che sarà poi il suo manifesto, infatti questi scritti sono pubblicati negli archivi della moda del Novecento, potete guardare lì la biografia e scaricare. Io lo consiglio molto, soprattutto ai giovani qui, di andare a leggere perché sono pezzi di storia importantissimi e ci fanno capire veramente la lunga storia che ha l'Italia su questo. E lei è un manifesto, cioè lei dice appunto, e io forse ho dei pezzi, ma comunque quello che lei dice, che le donne sbagliano se pensano che la moda e il femminismo non siano in un certo senso collegato. Invece non è che la moda è frivola e il femminismo è una cosa seria. Le due cose devono andare insieme perché la coscienza della femminilità, il saper governare la casa, lei dice, c'è tutta una serie di cultura delle donne, la cultura femminile, le industrie femminili, perché come sappiamo erano importantissime in quel periodo, le donne che ricamavano, le donne che producevano il tessile. La forza del tessile delle donne in quegli anni era qualcosa di straordinario, cioè in Italia. Quindi c'è qualcosa di più, vero, a cui dobbiamo fare attenzione. Qui parliamo di lavoro, parliamo di produzione, quindi di economia e di cultura. Le due cose non possono andare diversamente. E io vorrei dire, il 1908, un'altra importante, qui c'è, no scusate, sì, vedete questa è una copertina della Domenica del Corriere, è del momento di inaugurazione nel Campidoglio del convegno delle donne. Guardate come sono vestite anche queste donne, perché un attimino devo dire, questa è la tessera per esempio della scrittrice Grazia De Ledda, che partecipò, ci parteciparono un sacco di donne, cioè scrittrici, attrici, sarte, giornaliste. Quindi un momento molto importante. Si parlava, pensate, lo sapete, questo è il periodo anche in cui si parlava del suffraggio, no? Cioè le donne che ancora non votavano, non c'era, diciamo, cittadinanza. Quindi la Genoni, infatti questa è una delle citazioni da questo articolo che trovate appunto sugli archivi della Moda del Novecento, che fu pubblicato poi per intero su Vita Femminile, e la Genoni va vestita così al congresso. Lei disegna un vestito per questo. Cioè, e questo è bellissimo perché, diciamo, quando ho fatto la ricerca iconografica, no? Insomma, tu vedi come sono vestite queste donne nella copertina, copertina. E guardate com'è vestita lei. E questa è la seconda ispirazione per la Genoni, che è l'abito greco-romano, la classicità, che era un po' nel periodo, nell'aria, come si dice, zeitgeist. Però lei lo fa diversamente il drappeggio. Infatti su questo che vorrei sottolineare, secondo me, i giovani devono studiare ancora meglio, ritornare su questi punti dell'Italia in quel periodo, perché veramente lei rivoluziona qualcosa con quell'abito. Perché? Perché lei si ispira a queste statuette del Tanagra, di Tanagra, che sono alla sinistra, e lei veste, prima fa questo abito per sé, poi nello stesso due mesi dopo lo fa per una delle dive, che poi diventerà una delle nostre dive del cinema, muto, la Lida Borrelli, che poi sposerà il Conte Cini di Venezia e smetterà di fare l'attrice, ma era una delle bellezze italiane che poi si esportano in tutto il mondo. E questo è il vestito che la Genoni poi rifà per lei. C'è lo stesso, diciamo, modello, taglio, che lei vede realizzato in varie versioni, come se fosse un abito dinamico, trasformabile. Un po' i futuristi parlarono dell'abito, ma in maniera diversa. Qui c'è, e infatti se si leggono anche gli scritti, per me è stato molto affascinante concentrarmi proprio su questo abito e di vedere come lei descrive, cioè il drappeggio non è solo pensato, ma è manipolato dalla persona che lo indossa, le spille, gli accessori, si può cambiare, si può cambiare stoffa. Per esempio, queste sono tutte le pose, anche vedere le fotografie, cioè pensiamo alle tecnologie, ma la fotografia e poi il cinema, no? Insomma, è un momento importante in cui si vede anche l'immagine che si muove, vero? Cioè non è un'immagine statica, quindi anche questo è importante. E nella mia ricerca ho trovato un'altra edizione di questo suo libro che si chiama Per una moda italiana, perché lei scrive, nel frattempo scrive, cioè è come una persona che riflette sul suo operato, no? Cioè sul design, di che cosa dobbiamo fare, no? E poi il ruolo delle donne, il ruolo della cultura italiana, perché l'Italia deve avere fiducia in se stessa, perché noi siamo più bravi dei francesi anche, non dobbiamo avere paura di stare insieme con loro o anche imparare da loro per fare ancora meglio. E tra l'altro lei non ha torto per certe cose, non per fare patriottismo, ma infatti poi mi è anche stupito che per esempio la Genoni cita in questi articoli il Rinascimento, ma libri nel Rinascimento, il libro di costumi di Cesare Vecelio, che io ho anche studiato per il mio libro sul Rinascimento, pubblicato nel 1590 e 1598, Le donne, Lucrezia, l'Isabella d'Este, insomma entra anche nel merito di come la cultura italiana in quel periodo, non era solo arte, ma era anche maniera di interpretare, la maniera di vestire, quindi c'era un discorso di moda, cioè un linguaggio della moda, che era stato per certi versi soppresso, e quindi lei lo riporta. Quindi è molto importante, anche da un punto di vista della storiografia, quando noi andiamo a vedere, quindi andiamo a vedere questi scritti. Allora, l'altra cosa che mi ha stupito nelle avventure della ricerca, vero, quando uno comincia, allora mi sono trovata che un antiquario umbro, mi sembra, aveva questa edizione, per una moda italiana, che io avevo consultato, in America c'erano la Washington, l'avevo visto, ma questo qui, del 1910, di un altro, sempre la Croix, ma Balzaretti, un altro tipografo milanese, ma la cosa interessante è che c'è in inglese. Cioè, questo mi ha completamente sbalzata, perché dico, ma vabbè, francese, eccetera, ma come mai, questo, tutto descritto, le didascalie, perché questo è come un lookbook, diremmo, cioè le mette insieme in modello, per far vedere, quindi, che cosa sa fare ai clienti, eccetera, però con un occhio, a interpretare il concetto, la storia del vestito, non giusto il vestito, e come si farà oggi, perché non si funziona, e quindi, però lo mette in inglese, dico, come gli è venuta questa idea, quindi aveva questa idea dell'internazionalizzazione, cioè del made in Italy, insomma, lei aveva già questa idea in fiery quasi, no? E quindi c'è, infatti poi ho trovato, questo è un, lo dedica a un'allieva, tra l'altro, a Umbertina, a Laura, penso, Rosa Genoni, 1920, una delle allieve dell'umanitaria, lei dedica questo libro, e quindi le foto che vedete qui sono prese appunto dal libro, quella a sinistra, qui di nuovo, il discorso del drappeggio, del Tanagra, e l'altra cosa, secondo me, anche molto bella, di vedere come in questo lookbook, di solito il designer non si mette, è vero? Non si mette il designer, ecco qui abbiamo gli esperti, la Fernanda Gattinoni, cioè, nonostante lei fosse, diciamo, una persona incredibile, la sua personalità, ma, niente, invece lei si mette in prima persona, no? Insieme a Lida Borrelli, cioè, da una parte, perché è bellissima questa, anche questa scelta, no? Cioè, di voler dire, io sono autrice, no? Cioè, di questo vestito, di me, della sua propria, una soggettività femminile, attraverso il vestire, non attraverso, e quindi come il vestire fosse parte della cultura, lei lo chiamava abito mantello, il Tanagra, però vedete la versione che indossa, la Lida Borrelli, che è diversa, leggermente diversa, quindi c'è questa idea che il vestito tu te lo puoi modulare, come ti pare, e qui vedete un po' anche le pose, no? Vedete la pose sua, la pose della Borrelli, no? E quindi anche, cioè, è interessante vedere anche in questo momento come le dive, le nostre dive, prima delle dive di Hollywood, sono state le dive italiane del periodo d'oro del cinema, qui in Italia, avevano già questa carica di carismatica, insomma, di modulare. Questa è un'altra foto bellissima di Lida Borrelli, indossando sempre l'abito Tanagra, è di una bellezza, secondo me, straordinaria, e è sempre lei, giusto per, appunto, le fotografie, le era, e questa è in un film bellissimo del 1917, adesso vado avanti, e quello che vorrei, su cui vorrei concludere, è l'altra data importante per la Genone nel 1915, che la guerra, la prima guerra mondiale, lei diventa, lei come delegata dell'Italia, partecipa all'AIA, convegno internazionale delle donne, organizzato da Letta Jacobs, che era un medico olandese, e delegazioni da tutto il mondo, e la cosa, anche qui, queste sono delle foto, io ho trovato materiale, anche questa è una sorpresa, non me l'aspettavo, perché di nuovo, sono andata a vedere magari fonti, che non c'entravano nulla con la moda, e l'ho trovata la New York Public Library, di New York, è stata per me un'emozione grandissima, quando in queste, insomma, Rosika Schwimmer, era una femminista ungherese, che aveva partecipato, e Lola Lloyd, c'è proprio un fondo, a loro nome, con tante foto e materiali, ho trovato lettere, di Genoni, questo è materiale, vabbè, non mi fa fermo, perché sennò vado avanti, ma c'è, questa è una lettera della Genoni, che scrive, a Rosika Schwimmer, dopo che è scoppiata la guerra mondiale, e dice, io non riconosco più il mio paese, qui è una lettera di Carolina Podreider, alla suocera, che scrive, alla Genoni, e parla della preoccupazione che loro hanno, della sua assenza, perché per queste donne, poi diventano, saranno perseguitate tutte queste donne, tutti pacifisti, perché insomma, saranno schedate, io ho anche controllato il casellario politico dell'archivio dello Stato, qui a Roma, c'è molto materiale, e qui è una lettera, vedete, così si presentano le lettere, vedete, Madame Genoni, queste erano aperte dalla polizia, e poi mandate, sì sì, poi mandate, poi mandate, e questo per esempio è la lettera di Alfredo Podreider, che non erano sposati, allora si sposeranno dopo, ma avevano una figlia, Fanny, che aveva 12 anni, e le scrive, e è stato bellissimo trovare una frase in questo, lui dice, vuoi che ti mandi il tuo abito mantello? Ma questo abito mantello è qualcosa che si ripete, deve aver significato molto per lei, questa cosa, e quindi, questo è l'intervento di Rosa Genoni, che anche ho trovato lì nell'archivio, è tutto, lei invoca grazia, che dice, le mie sorelle latine, mi sento sorella di tutte le donne, di ogni paese, di ogni razza, lei invoca l'internazionalismo, e poi, per concludere, diciamo, un'altra data importante, nel 1925, lei pubblica il primo volume della storia della moda, perché un'altra delle sue preoccupazioni era la insegnare, non c'erano scuole in Italia, allora lei diceva, senza la formazione degli studenti, noi non possiamo produrre una moda, non basta solo la volontà di me, che faccio questa attività, ci vogliono le scuole, ci vogliono le scuole, che devono imparare, insegnare agli studenti, dice, come in Francia, andare nei musei, andare a scoprire la storia, ispirarsi, quindi le tecniche, e quindi, dice, non abbiamo testi, no? Allora lei cita, infatti conosce i testi importanti, come Kishera, questi testi grossi di storia della moda, dice, in Italia non ci sono, dice, noi dobbiamo scrivere i testi, perché dobbiamo insegnare agli studenti, così possiamo produrre la moda, beh, insomma, sono tutte idee, devo dire, che poi erano di una grande attualità, se si pensa, ecco, del 25, e poi lei, diciamo, questa è una piccola citazione, dalla sua prefazione, perché lei collezionava immagini, non solo per la moda, perché lei voleva presentare agli studenti le immagini di storia, perché pensate, in quell'epoca, non è che c'era la televisione, il computer, come facevano queste persone operaie ad avere accesso alle immagini? e lei le metteva insieme, e poi, pare, ho trovato anche in una lettera alla New York Public Library, cominciavano a proiettare le immagini con le lanterne magiche, lei dice, vorrei, la lanterna vorrei delle foto, come le PowerPoint, cioè lei pensava, no, di insegnare, come poter insegnare, mettere le immagini, le parole, no, e il discorso e far capire, insomma, io lo trovo di una grande attualità e anche ricchezza che direi ci dà molto coraggio a dire che, naturalmente, Giorgini, il 1951-52, ma ci dice anche che la storia del Made in Italy è molto lunga, cioè noi abbiamo una storia che è straordinaria e quindi la dobbiamo usare nel migliore dei modi, perché poi anche questo Made in l'ha inventato l'Italia, tra l'altro, cioè non esisteva prima proprio questa idea di Made in, Made in Italy e poi adesso c'è Made in China, ma è stata un po' l'Italia a promuovere questo tipo di discorso di moda e territorio, moda e cultura, da dove è il contesto e quindi non è solo il vestì, ma è il sapere, le tradizioni artigianali, le tradizioni storiche, architettoniche, culturali delle nostre città. Quindi, grazie. Molte grazie. Naturalmente, per chi ha letto il percorso biografico di Rosa Genoni, scoperto, diciamo così, portato così alla luce da Eugenio Paolicelli, c'è tutta la pagina che riguarda l'incontro di questa identità nazionale e il fascismo, che qui non si è potuto dire, ma che è problematico, perché indubbiamente c'era una componente italiana, diciamo nazionale, che però non era la stessa e non fu la stessa, andava per altri percorsi di quello che poi il fascismo fece, ma appunto è un altro capitolo, è un altro capitolo. Ora, noi abbiamo pensato di seguire un ordine che non è quello alfabetico che spesso si segue, ma che dà la parola per prime, diciamo, ad alcune delle storie, delle storie qui presenti, che sono autrici delle voci, per poi lasciare ad un commento finale altre che non sono. Quindi, Maria Natalina Trivisano, uguale Ferré, diciamo, ognuno è collegato ad un testo che ha scritto, che come ho detto è curatrice editoriale del portale Archivi della Moda del Novecento e che insieme a Eugenia ha organizzato questo seminario. Prego. Grazie. Sì, ecco, allora, innanzitutto ancora i ringraziamenti per la vostra presenza perché è veramente eroico come gesto e poi così ci tengo a innanzitutto a ringraziare il professor Romanelli e lo staff della Tricadi che ci dà la possibilità di mettere in comune in qualche maniera, di cominciarlo a fare, di mettere in comune gli ambiti di ricerca, di lavoro, e proprio partendo da queste biografie e poi voglio ringraziare pubblicamente la fondazione Francesco, Gianfranco Ferré che mi ha sostenuto, mi ha supportato aprendomi proprio le porte della loro fondazione. a proposito, se andate a Milano e nei vostri percorsi vi consiglio una visita in fondazione che è perché si respira profondamente il genio di Gianfranco Ferré e la ringrazio anche per tutto il materiale d'archivio che mi ha messo a disposizione e quindi ho potuto respirare l'area creativa proprio di Ferré e un ringraziamento anche speciale a Eugenia che nonostante le distanze riusciamo a tenerci in contatto e a farci venire delle idee. Allora innanzitutto approccio e in qualche maniera mi sono così avvicinata a questo grande della moda con un grande rispetto e anche timidezza e in qualche maniera un po' prendendo così questa frase che è triestina dell'andare per fodere cioè di mettere proprio il cuore e il cervello nel caso loro per quanto riguarda l'andare in giro nella città ma per quanto riguarda me mi sembra proprio calzante ecco sono andata per fodere nella così a cercare a conoscere e poi valorizzare per quello che mi è stato possibile proprio il percorso di vita e chiaramente la sua parte artistica tutta la sua produzione e le sue realizzazioni quello che ho cercato anche di dare proprio prospettiva a questa voce cercando di indagare anche dei probabilmente sì ambiti che sono un po' fuori dal dalla produzione quella proprio to cure quindi probabilmente con quello che è stato il taglio è di uscire da una biografia di tipo così orientata al marketing per intenderci ma di andare a sondare proprio degli aspetti anche più intimi e soprattutto poi le relazioni con le arti con l'arte e con la cultura e e poi anche proprio qualcosa della sua personalità e intanto parto subito dal farvi vedere questa immagine Gianfranco Ferré nasce a Legnano il 15 agosto del 44 questi sono i suoi genitori è una foto che in qualche maniera ricostruisce anche la sua la sua famiglia la sua famiglia che sarà proprio che saranno le sue radici e sono fondamentali poi le sue radici per quanto riguarda la sua vita e il suo percorso creativo e in casa Ferré vigeva un'educazione cattolica estremamente rigida e un'osservanza alle tradizioni che si coniugava fortemente al senso del dovere e della misura considerate che soleva dire che c'era un'eleganza del vivere proprio nella loro quotidianità cioè loro ecco avevano questa tradizione di una tavola sempre bandita con l'argenteria cioè sono quei quegli elementi che in qualche maniera poi creano formano formano la persona e formano il suo gusto e Legnano una città di provincia e una provincia anche nel senso proprio migliore del termine come proprio così soleva dire questa è un'altra foto sempre bambino con la madre e questa è una foto alle elementari e quindi un percorso di grande studio considerate che già durante il liceo gli amici ricordano di una grande attenzione al disegno e di una grande proprio dimestichezza nel nel disegnare la figura umana e si iscrive ad architettura al Politecnico di Milano nel 63 questo è il suo libretto e quindi un periodo di grande studio e soprattutto proprio frequenta la sua facoltà in maniera molto rigorosa nonostante siamo in pieno periodo delle grandi rivoluzioni anche proprio quindi si lascia poco poco distrarre e di fatti lui così si raccontava come un ragionevole figlio del 68 cioè quelli ammalati di cultura e poi si laurea si laurea nel 69 anche in poco tempo nonostante questi 20 e si laurea con l'architetto Franco Albini con una tesi in metodologia dell'approccio della composizione è un programma questo titolo perché in effetti parliamo proprio di Gianfranco Ferré come architetto sia per formazione ma anche per vocazione è chiaro che durante il suo periodo universitario acquisisce tutta una serie di metodo una logica progettuale il gusto della sperimentazione il rigore di intenti quindi un apparato molto forte da un punto proprio di vista di formazione estremamente rigorosa ma al tempo stesso aveva un indole da architetto cioè aveva un senso forte per esempio dell'impiegare il tempo e di non perderlo mai perché amava progettarlo il tempo e perdere tempo avrebbe in qualche maniera inficiato quel metodo quella progettazione quindi proprio nel suo essere nel suo essere originario c'era questa attenzione e questo comportamento da architetto e per esempio anche il concetto del lavoro cioè un'espressione viva simile a un vero e proprio esercizio di progettazione cioè proprio un architetto tout court e certo la moda e l'architettura sono estremamente interrelate come mondi come discipline a proposito delle interrelazioni di cui parlava anche Eugenia e qui però ecco parliamo di un architetto che decide di occuparsi di moda e volevo soltanto citarvi questa c'è questo libro bellissimo in cui sono raccolte tutte le lezioni di moda che Gianfranco Ferré ha fatto proprio in tutto il mondo che lo consiglio lo consiglio come lettura soprattutto agli studenti in cui proprio c'è la sua filosofia e soprattutto la sua concezione anche del suo metodo e della relazione tra moda design e architettura cioè è certo chiaro che l'architettura fa pensare a qualcosa di fortemente rigido mentre l'abito ha qualcosa di molto soft però ecco lui spiega apparentemente l'architettura è hard e gli abiti sono soft ma anche quando gli abiti sono soft disegno per qualcosa di hard e definitivo il corpo umano ecco questa è la sua grande concezione e il suo punto centrale disegnare per il corpo umano e durante il periodo della formazione universitaria si sperimenta si sperimenta con la creazione di micro architetture per esempio in questo caso una cintura quindi sperimenta proprio la possibilità di agire sulla materia cuoio per esempio lavora il cuoio la plastica il metallo e comincia a fare degli oggetti del genere delle spille dei bracciali che a un certo punto tramite un giro di amicizie soprattutto le sorelle Biffi che saranno poi che avevano una boutique piuttosto importante a Milano e conoscevano poi tutta una serie di giornaliste quindi comincia un bel tam tam di questi gioielli e arrivano le giornaliste che in qualche maniera si occupano di lui per esempio questo è proprio un riferimento lì lo vedete ad una spilla di Gianfranco Ferré su linea italiana quindi rapporto con la materia ma a un certo punto del suo percorso incontra la cultura altra l'altro da sé e grazie proprio al era entrato è diventato proprio il direttore direttore di una linea catch della società impermeabile di San Giorgio di Giorgio Borrelli e gli viene affidato questa linea quindi il compito di andare in India qui parliamo di delocalizzazioni in cui lì c'era questa produzione di questa linea e ha il compito di curare tutta la filiera dalla produzione alla costruzione dei tessuti quindi parte va in India e qui succede qualcosa di importantissimo nella sua storia la visione vestimentaria si armonizza con il metodo architettonico cioè scopre scopre per esempio la grande potenza dei colori per cui e questo poi naturalmente si ritroveranno nelle sue collezioni i colori del sole infocato della terra del tramonto la possibilità di avere dei materiali inediti a costo contenuto ma soprattutto ecco quello che riesce proprio a scoprire e come questo contatto con una cultura diversissima dalla sua è diventa il modo per capire qual è la sua missione qual è effettivamente il suo percorso cioè grazie all'Oriente grazie a questo a questo viaggio l'India poi seguirà il Giappone la Cina decide di diventare un creatore di moda e attraverso proprio lo sguardo e soprattutto l'osservazione delle donne indiane che come scrive sempre in questo libro lezioni di stile in questo loro drappeggio degli abiti qui mentre poi svolgevano i loro lavori umili e faticosi quello che scopre è la regalità assoluta di questi corpi all'interno proprio di questi abiti quindi questo dice mi ha insegnato tra l'altro quello che io chiamo il senso del corpo e e con la possibilità di attraverso proprio questo questo abito che in qualche maniera si muove accanto e sul corpo la lezione dell'Oriente mi ha permesso di ricalibrare il principio del lusso e dell'opulenza non legandoli ma puntando invece ad eliminare il superpo l'orpello e la ridondanza quelle donne erano regali nonostante poi questi abiti e questa sarà una lezione importantissima per il suo percorso e accanto a questo scopre anche altri tipi di taglio di costruzione proprio dell'abito e dal figurino ecco uno delle sue per esempio dei suoi metodi era quello di scomporre di scomporre il il modello in vari modelli concentrandosi su dei particolari in questo caso per esempio la la manica e e qui c'è anche un metodo di lavoro nel senso che qui si da già si trasferisce il modello alla fabbrica quindi di disegna in piana e questo è già un'impostazione di tecnica sartoriale per poi la produzione e quindi sarà questo è un altro disegno in pianta per cui già pronto poi per l'industria ecco questo è uno dei primi disegni per Baila e siamo nel 74-75 questo è uno dei primi disegni che è proprio conservato dalla fondazione Ferret e ora cioè chiaramente torna in Italia comincia proprio a produrre a disegnare a produrre e la prima proprio sfilata la prima sfilata in cui della società Gianfranco Ferré S.P.A. è il 23 marzo 1978 qui c'è un documento di invito di invito proprio di affirma Gianfranco Ferré alla sfilata e questa è una foto proprio che stancisce un grande successo il grande successo di Gianfranco Ferré in questa sfilata vi erano Beppe Modenese e Rudy Crespi che lanciano il brand Ferré nel mondo quindi da questo momento in poi Ferré diventa conosciuto in tutto il mondo ora saltanto un pochissimo diciamo cercando di andare e tematizzare quindi quello che in pratica negli anni tra le 70 e l'80 a Milano cosa succede? C'è proprio l'espluat dello stilismo del pret-à-porter e parliamo della triade delle tre G Giorgio Armani Versace e Gianfranco Ferré tra questi il suo il suo metodo chiaramente abbiamo visto che è proprio da metodo di progettazione da davvero architetto e quindi una creatività che va verso le forme di produzione quindi una confezione di tipo industriale anche se sotto forma di articolo in serie anche se di tipo raffinato ed esclusivo come prodotto e quindi quel tipo di metodo che è proprio un metodo di lavoro ma è un metodo anche di rapporto con il cliente che chiaramente è un rapporto non diretto attraverso le boutique e i punti vendita cioè questo mondo nel 1986 si innesta con l'alta moda nel 1986 Gianfranco Ferré invitato qui a Roma produce degli abiti di alta moda e questa è la sfilata al casino di Palazzo Rospigliosi e che cosa succede? In questo momento il modo tipicamente italiano di concepire il pret-à-porter per cui un fenomeno di stile di eleganza con una produzione così avanzata attraverso la tecnologia che in qualche maniera si coniuga con la tradizione e l'artigianato ecco tutto questo viene ad innestarsi con l'atelier dell'alta moda e qui il dottor Dominella potrà raccontarci e con tutti i riti che fanno parte dell'atelier quindi c'è una come dire un coniugarsi di due metodi di due di due mondi e un modo anche di lavorare estremamente diversi che però Gianfranco Ferré coniuga e cerca in qualche maniera di di creare un tradunion e mantenendo chiaramente tutte le sue conoscenze quelle che erano state sviluppate durante il periodo del pret-à-porter e coniugandolo con il lavoro dell'atelier con il lavoro degli artigiani che in qualche maniera riescono ad elaborare e a creare dall'idea un manufatto attraverso questo metodo così unico questa attenzione così forte al dettaglio e ora è chiaro che incomincia il come dire l'impero di Ferré considerate che confeziona non soltanto prodotti di abbigliamento accessori ma si esplode proprio un progetto globale di stile quindi arriverà ai profumi ma anche la valigeria ma anche i corredi anche le ceramiche questo per dirvi come la creatività in qualche maniera si esprimerà in tutti i settori e in tutti gli ambiti proprio anche del 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 viver comune infatti parliamo di total living e altro momento importante altro snodo importante Ferré nel 1989 viene chiamato a dirigere la Maison Dior considerate che era stato l'impero l'impero proprio francese per assoluto chiaramente sempre diretto da francesi quindi che là la più prestigiosa Maison de Couture di Francia piena di ritualità di tradizioni eccetera affida ad un italiano soprattutto sottolineato ad un italiano ad uno straniero ad un italiano una casa una casa così importante ci fu proprio una levata di scudi scandalo ma Gianfranco Ferré riuscì proprio a prima innanzitutto a prendere questa sfida e a dare il massimo questa foto la trovo estremamente interessante perché è la insomma chiaramente la sfilata che la sfilata è conclusa chiaramente con questo braccio che in qualche maniera sancisce il grande successo e attraverso pochissimi mesi dal suo incarico per confezionare gli abili di questa sfilata la prima cosa che fa Ferré è quello di inoltrarsi negli archivi di Orr infatti lui parla proprio di aver avuto bisogno di respirare la polvere che aveva lasciato di Orr e respirare proprio lo stile per riuscire in qualche maniera a ritrovare il senso anche di quel di sì il senso di quella creatività ora il mondo internazionale ma culturale si interessa a Ferré e questa è una prima una prima mostra dell'82 e vado avanti intanto questa è stata l'installazione dei suoi abiti considerate che dall'82 al 2007 viene a mancare nel 2007 Gianfranco Ferré ci sono state 25 mostre in tutto il mondo quindi immaginate anche quanto questi abiti oltre diciamo l'elemento così commerciale lo stare nelle boutique poi hanno partecipato e hanno fatto parte di di narrazioni di mostre di percorsi diversi volevo soltanto farvi vedere questa mostra della biennale della moda il tempo e la moda nelle cappelle mi dice in cui Ferré presenta queste cinque crinoline queste cinque installazioni che danno proprio un senso di forte lievità di magia all'interno di questa struttura quindi questo forte contrasto due ultime cose l'arte per Ferré era qualcosa di estremamente quotidiano a parte una tradizione divisa dei musei ma aveva proprio anche delle opere d'arte in casa nelle sue case e quindi si nutriva fortemente del di arte ma altra cosa sponsorizza nell'83 il restauro degli affreschi del Guercino consideriamo che la sponsorizzazione di opere d'arte e di restauro del patrimonio italiano sappiamo che ormai è molto di moda per quanto riguarda le case di moda soprattutto negli ultimi anni qui siamo negli anni 80 e cominciava ad esserci anche questo tipo di comportamento e altra sponsorizzazione nel 2007 sponsorizza proprio il restauro di questo Adamo Piange e Abele di Lot Altro elemento importante dona 10 corsetti al Fashion Institute of Technology e soprattutto dona 67 capi più di 300 pezzi alla galleria del costume di Palazzo Palazzo Pitti considerate collezioni haute couture e petà portè dal 1986 all'89 e nel 2000 viene allestita questa mostra ideata da Gianfranco e allestita anche da Margherita Palli Altro alimento i rapporti con le arti teatro e teatro e danza e questi sono disegni per quest'opera Tamara questo per un'opera firmata di cui il regista era Luca Ronconi danza questi sono due abiti per la fraccia e per la Carlson e ancora danza e tradizione equestre francese questo è un balletto del 99 altra cosa importante l'aver ideato e confezionato l'abito per Dario Fo per la cerimonia del Nobel di apertura questa è una foto molto bella proprio dove c'è questa costruzione dell'abito di Fo ma la sua quintessenza il suo capo fondamentale sono le camicie questa è una mostra del 2014 che ha girato un po' in tutto il mondo queste sono delle micro installazioni di questo fotografo Luca Stocconi allora questa è un'immagine del Vogue Italia dal primo numero di cui era la direttrice la Sozzani ecco diciamo che la così concludo che la questo diciamo prodotto che sono queste camicie che sono senza tempo che sono fortemente contemporanei che sono proprio come dire la la sua forse probabilmente il suo prodotto più importante che lascia alla moda italiana anche una una prospettiva una prospettiva di essere proprio una moda forse senza tempo perché sono delle camicie che non sono legate ad una collezione in particolare lo studio della moda e lo studio della moda poi come diceva anche la Paulicelli che fa poi che crea relazioni sistema di sistemi è stato un così oggetto di di un portale proprio degli archivi della moda del novecento voluto fortemente dall'amministrazione archivistica questa è la home page e questo portale nasce da un progetto della Nai del 2009 e qual è diciamo la missione di questo portale cioè quello di partire da un recupero salvaguarda valorizzazione del patrimonio documentario che è diciamo contenuto in archivi di imprese case di moda scuole di moda del sistema moda e vado avanti poi insomma chiaramente vi lascio poi la possibilità di poterlo esplorare chiaramente è soltanto un sono soltanto delle possibilità di accesso a delle risorse che sono già in rete ma questo non toglie la bellezza della ricerca d'archivio quindi chiaramente è soltanto un modo per poter poi accedere in archivio questa questi soggetti aderenti sono un micro progetto di visualizzazione e catalogazione di sei case di moda italiane tra cui c'è anche Gatti Noni Salvatore Ferragamo anche la Fondazione Ferré e poi chiaramente c'è una serie di sezioni dedicate alla storia dedicate poi ai protagonisti anche dei profili biografici e il collegamento alle fonti archivistiche perché questo è l'elemento fondamentale quello di poter presentare tutta una serie di fonti archivistiche bibliografiche e poter cominciare la ricerca e poi ci sono una serie di questioni molto redazionali volevo soltanto chiudere con ecco con queste quella possibilità di accedere alle schede prodotto cioè alla possibilità di di poter in qualche maniera arrivare ad una scheda di catalogo con tutti i materiali i materiali di produzione quindi dei dettagli e quindi anche per esempio ai disegni tecnici e quindi anche ai ritagli di giornale tutto ciò che ha in qualche maniera visto il processo di produzione di quell'oggetto e quello che poi ne è venuto dopo a me dispiace di fare la parte che devo fare però perché se no non arriviamo in fondo io prego gli altri che parleranno adesso di guardare l'orologio e la parola è adesso a Valeria Pinchera Valeria Pinchera è professoressa di storia economica a Pisa e anche lei si è occupata di questioni contemporanee ma mi piace sottolinearlo e ha avuto un approccio alla storia economica della moda in questo caso di lungo periodo se non sbaglio il suo primo libro riguarda l'usso e decoro vita codiana e spese salvate a Firenze nel 6-700 quindi è vero che noi ci stiamo occupando di un fenomeno novecentesco come dice il titolo ma l'alito della storia e del passato è molto presente nei contenuti e nelle autrici nell'approccio negli studi a te la parola e l'occhio e l'orologio grazie il contributo si avevo una doppia opzione di presentazione una solo immagini l'altra testa immagini siccome dobbiamo come dire essere sintetici opto per la seconda così siamo il più conclusivi possibile grazie mille al direttore professor Romanelli tra l'altro noi ci siamo trovati per un periodo io come studentessa lui come docente a Pisa da dove vengo e dove ho studiato quindi una formazione un po' diciamo sfaccettata e un po' pragmatica quindi nella mia presentazione andrò un po' per fasi quindi sarò come dire un po' strutturata nell'esposizione e ahimè io ecco mi duole perché dopo aver visto tutte quelle belle fotografie mi sento francamente un po' in difetto però cercherò di come dire valorizzare quel poco che ho messo io penso che la figura di Salvatore Ferragamo ma più in generale diciamo di tutto il percorso della moda sia benissimo riassunta nel sottotitolo della giornata perché da una parte abbiamo i protagonisti della moda italiana ma dall'altra ci sono tre elementi che sono arte, cultura e impresa e questi sono tre elementi che vanno di pari passo in più la moda appunto grazie alla bellissima introduzione del direttore professor Romanelli poi vi deluderò moltissimo però effettivamente il motivo cioè l'inizio mio attraverso il rinascimento è il motivo per cui sono giunta poi dopo alla moda perché è uno degli aspetti peculiari delle ricchezze italiane il rinascimento è l'unico momento ora non vorrei essere così un po' tranchant ma l'unico momento in cui l'Italia ha avuto un primato e da tutti i punti di vista e questo primato ha riguardato anche la moda e tra l'altro la moda viene interpretata in alcune visioni storiche di lungo periodo come già stato giustamente anticipato come uno degli elementi che veicolano esternamente l'immagine dell'Italia paradossalmente cibo e moda sono i due emblemi dell'Italia che all'esterno uniscono e danno l'identità al paese ma all'interno del paese si frammentano in molteplici aspetti che arrivano a essere diciamo la ricetta tra virgolette del paese X diversa dallo stesso piatto fatto nel paese Y a 10 chilometri di distanza e questo è uno dei diciamo degli aspetti diciamo delle ricchezze allo stesso tempo e anche un po' delle problematiche del nostro paese Ferragamo riassume diciamo molti di questi aspetti che ho appena detto sì perfetto e io diciamo ho riassunto il suo percorso in quattro fasi tra l'altro mi piace ricordare se non erro e lui nasce lo stesso anno di Giovanni Battista Giorgini e in qualche modo lui attraversa diciamo la fase come dire degli inizi della definizione della moda italiana la veicola prima all'estero dopodiché lui partecipa proprio poi insieme a Giorgini al lancio della moda italiana e ha degli aspetti peculiari la figura di Salvatore Ferragamo perché lui è allo stesso tempo un artigiano come io dico qua nel titolo e un innovatore e un creatore io infatti per fortuna poi ho scoperto che non dovevo identificarlo nella voce che dovevo scrivere perché a un certo punto non sapevo dunque creatore non è esattamente diciamo limitante imprenditore perché anche un imprenditore non vi devo spiegare Salvatore Ferragamo in realtà forse che cosa ha fatto perché oggi l'azienda esiste tra l'altro è uno dei maggiori esempi di longevità delle imprese della moda tra l'altro si è ingrandita è una anche delle poche imprese quotate quindi è un esempio di per sé anche oggi da tanti altri punti di vista per cui Salvatore è tanti aspetti nasce appunto nel 1898 povero come la Rosa Genoni undicesimo di 14 figli e diciamo la sua vita la possiamo riassumere in 4 punti formazione creatività cioè gli elementi peculiari del suo apporto e poi la sua partecipazione alla nascita della moda italiana e quindi l'eredità di Salvatore per la formazione qui diciamo c'è quella dimensione artigiana lui fa come la Rosa Genoni l'apprendista proprio da piccola a 9 anni perché vuol fare il calzolaio in tutte le maniere nonostante gli scoraggiamenti della famiglia tra l'altro abbiamo provato anche a fare il sarto per cui alla fine mi ho detto chissà come sarebbe stato interessante anche Salvatore Ferragamo sarto però ha deciso di fare il calzolaio in un paese di 4500 anime senza futuro che lui definisce un piccolo cieco e da cui poi cerca di naturalmente uscire fuori apre la prima bottega a 12 anni quindi è un bambino sostanzialmente ma di fatto a 14 è un piccolo imprenditore con più di 4 lavoranti che realizza 20-25 paglia di scarpe la settimana ecco questo già di per sé sarebbe straordinario ma in realtà no la dimensione era già piccola per lui e diciamo seguendo l'esempio dei fratelli e migra negli Stati Uniti prima a Boston ma Boston l'industria americana delle calzature non lo fascina per niente decide vuole fare un laboratorio segue i fratelli a Santa Barbara e qui approccia l'industria del cinema americano quindi diciamo la sua la sua ascesa si associa alle prime figure di grandi attori come le sorelle Pig Hickford ma assolutamente personaggi leggendari della storia del cinema e qui realizza i primi modelli che sono finalizzati e film ma che poi escono fuori dalla dimensione come dire scenografica e diventano delle vere e proprie creazioni perché qui inizia diciamo anche la sua come dire apertura mentale in cui intende perfezionare diversi aspetti dell'arte della calzatura e in particolare segue dei corsi di anatomia di ingegneria chimica e di matematica pensavo diciamo ero quasi incerta io se veramente questo fosse accaduto ma è tutto vero tra l'altro lui racconta tra l'altro in istituzioni anche prestigiose facendo degli sforzi alcuni corsi per corrispondenza altri corsi serali però lui approfondisce tutte le dimensioni componenti anche anatomiche nonché delle lavorazioni della pelle del prodotto e questo è un elemento fondamentale perché lui è un obiettivo lui vuole cercare di creare la scarpa perfetta e realizza tra l'altro un'innovazione che è una lamina di metallo il cambrione che sostiene l'arco del piede lui è specializzato in calzature femminili all'inizio questo va detto oggi ne concepiamo l'impresa come una che abbraccia tutte le dimensioni merceologiche della moda ma di fatto inizialmente la sua specialità sono le calzature femminili e brevetta questa invenzione questo è l'altro aspetto straordinario perché non esistono molti casi di brevetti nel settore della moda lui lo fa tra l'altro guardando al futuro perché non guarda essenzialmente al presente lui ha una dimensione artigiana ma lui sa avendo visto cosa avviene negli Stati Uniti che un domani la produzione di calzature diventerà seriale questa fase è seguita quindi poi da tutta l'esplosione creativa di Salvatore perché fino a che ci rimettiamo agli aspetti tecnici non comprendiamo quanto è innovato la calzatura ha il colore il colore la dimensione del colore nelle calzature prima non esisteva le forme della calzatura lui è celebre per quella creazione sopra sono delle sandali zattera diciamo creati per Judy Garland ma soprattutto poi lui sperimenta anche qualsiasi tipo di materiale il camotion non si utilizzava ma questi diciamo sono alcuni degli aspetti lui abbraccia poi la dimensione autarchica il periodo fascista che segue diciamo poi l'impresa diciamo e l'operato di Rosa Genoni che cerca di istituzionalizzare la moda italiana e in diciamo in un modo che però è troppo coercitivo alla fine non produce gli effetti desiderati però contribuisce a creare una cultura della moda e questo è un aspetto fondamentale a creare anche un tradunion tra moda e arte questo è un altro aspetto che si rifletterà in seguito e che è considerata una delle ricchezze della moda italiana il periodo autarchico che inquadra appunto la politica fascista è diciamo un stimolo alla dimensione creativa e sperimentale di Salvatore qui vediamo sotto una creazione col sughero materiale povero e la rafia mai stati utilizzati tutti questi elementi che quindi sono innovazioni nei materiali ha usato persino la pelle di pesce nelle forme e nei colori è poi riprodotta nei brevetti perché sono moltissimi brevetti che lui realizza ne sono stati raccolti oggi grazie alla famiglia Ferragamo all'azienda e soprattutto al museo Ferragamo ne sono stati diciamo recuperati circa 400 ma sono molto superiori e si tratta diciamo anche di brevetti non solo di modelli e di accorgimenti tecnici ma anche di marchi di imprese e questo è un altro elemento molto interessante l'azienda l'azienda si ingrandisce lui torna in Italia perché non trova lavoranti negli Stati Uniti capaci sceglie Firenze e qui il connubio con l'arte e la storia del rinascimento diciamo raggiunge il completamento del cerchio a questo punto lui nonostante alcune traversie diciamo riesce anche a raggiungere il G7 internazionale è avere una dimensione ormai assolutamente diciamo universale e questo momento viene sancito e qui inizia diciamo l'ultima fase con l'accompagnamento tra virgolette quasi un traghettatore insieme a Giovanni Battista Giorgini della moda italiana sulla scena internazionale perché lui nel 47 è il primo italiano è il primo creatore di calzature insieme a Christian Dior per il new look ad ottenere il premio il cosiddetto Oscar della moda del department store americano in Iman Marcus che è considerato diciamo un simbolo e con l'ideazione di quella scarpa che vedete che è il sandalo invisibile realizzato con il filo di nylon ispirato ai pescatori dell'Arno quindi questo è un altro punto che fa vedere la straordinarietà della sua inventiva ma soprattutto diciamo lui intende anche di prestare la sua opera alla definizione stessa della moda italiana infatti lui è uno dei protagonisti seppure diciamo dietro le scene tra virgolette del debutto della moda italiana nella casa di Giorgini il 12 febbraio del 51 e lo fa creando un nuovo sandalo tra l'altro ispirato al Giappone qui si può ritrovare un'altra dimensione allargata all'estero è uno dei tanti esempi perché ce ne sono altri che crea questo sandalo che si chiama Sikimo che ha una calzetta intercambiabile lui ha proposto tre varianti che è nella fotografia dove si vede Salvatore Ferragamo che sostiene una delle gambe delle modelle che viene presentato con gli abiti di Emilio Schubert questo diciamo l'accompagnamento del debutto della moda italiana che poi porta a un'affermazione della moda italiana sul mercato internazionale straordinaria che è legata anche al processo di crescita dell'economia italiana e di avvio finalmente definitivo dell'industrializzazione naturalmente veicola ancora maggiormente il successo di Salvatore che a questo punto come dire si arrende un po' anche alla lavorazione a macchina cosa che lui inizialmente rifiuta e progetta tra l'altro già prima che come dire Ferré e gli altri propongano al pret-à-porter le seconde linee una seconda linea di calzature appunto che è un prodotto intermedio tra l'artigianato e l'industriale che tra l'altro viene realizzato in Inghilterra e che si apre a una clientela più ampia che ora finalmente si sta creando anche in Italia perché prima in Italia purtroppo il grosso problema era la mancanza della domanda cioè le persone vivevano in condizioni tali che non potevano diciamo a aspirare a comprarsi sul mercato dei vestiti e dei complementi di abbigliamento questo ancora di più incentiva il suo fervore creativo in quest'epoca vengono create tra l'altro le famose ballerine con suola conchiglie ispirate alle calzature degli indiani di America per Audrey Hepburn e l'immagine di Ferragamo come dire a questo punto è direttamente accostata alla moda italiana ma lui già negli anni 30 aveva raggiunto le copertine diciamo delle bibbie della moda come Vogue e era è stato uno degli anticipatori insieme a Gucci di quell'idea del fine Italian hand cioè della capacità artigianale della moda e che è poi uno come dire dei delle sue valenze tangibili allo stesso tempo intangibili che l'hanno resa diciamo famosa l'ultimo diciamo contributo di Salvatore è la sua autobiografia ma qui voglio sottolineare che la cosa paradossale però e questo dovrebbe farci riflettere che lui prima la pubblica in inglese nel 57 showmaker of dreams cioè ancora probabilmente il nostro paese non è preparato a recepire che storia straordinaria che esperienza straordinaria abbia dato che contributo abbia dato Salvatore Ferragamo e viene tradotta in italiano solo nel 71 cosa ha lasciato Salvatore beh Salvatore ha lasciato un grandissimo patrimonio avrei potuto far vedere tutte quelle magnifiche forme di calzature dei piedi di tutti i personaggi famosi ma soprattutto tutti i modelli i brevetti le carte i disegni perché soprattutto il grosso problema è che Salvatore muore piuttosto giovane considerate nasce nello stesso anno di Giorgini ma muore dieci anni prima cioè lui muore a 62 anni e e questa scomparsa prematura diciamo avrebbe potuto diciamo non lasciare diciamo poi così tanta testimonianza e modernità della sua figura diciamo le sue eredità per fortuna è l'elemento su cui hanno costruito diciamo e hanno veicolato e poi anche ingrandito le proposte di Salvatore Ferragamo realizzando il suo grande sogno cioè vestire la donna dalla testa ai piedi e quindi allargando poi la produzione dalle calzature vestiti all'abbigliamento cosa che fecero già le figlie Fiamma e Giovanna nel 59 però qui in una dimensione industriale grazie soprattutto a Vande e quindi figli ha avuto sei figli che tutti a diverso titolo hanno avuto un ruolo nell'azienda e che quindi hanno fatto poi di Salvatore Ferragamo una delle grandi player a livello internazionale come ho già detto e qui c'è però un altro elemento peculiare e distintivo che è legato alla storia alla figura di Salvatore ma anche come dire alle valenze culturali che questa famiglia è riuscita a tramandare cioè nel 95 tutto questo materiale patrimonio di Salvatore è stato diciamo valorizzato attraverso l'allestimento di un museo all'interno del palazzo dove poi aveva a sede la boutique diciamo flagship store di Ferragamo a palazzo Finisperoni e dove ci sono parte degli uffici cioè quartier generale tra virgolette e questo museo inaugurato nel 95 è una delle poche testimonianze tra l'altro poi presa a modello da altre noti brand e marchi della moda come per esempio poi successivamente Gucci e altri però è diciamo un esempio che va sottolineato assolutamente pioneristico come pioneristica è stata la figura di Salvatore grazie grazie e tutto ciò è molto affascinante ma dobbiamo procedere di gran carriera la parola a Elisabetta Merlo un'altra docente di storia economica in questo caso dell'Università Bocconi è una docente di storia dell'industria non di storie economiche se non sbaglio e quindi non soltanto dell'industria del novecento e non soltanto dell'industria della moda anche se in quest'ultimo settore a quanto vedo ha dedicato la maggior parte dei titoli più recenti vedevo il dress and fashion in Italy from 1800 to the present e tra l'altro vari titoli in inglese e questo ci riprende una dimensione internazionale dell'argomento di cui stiamo parlando prego 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 allora io Roma Roma 11 maggio allora dunque una brevissima introduzione ringrazio il professor Romanelli che ha già anticipato alcuni temi interrogandomi e chiedendo a Natalina Trivisano che cosa come avrei potuto contribuire alla giornata di oggi mi è stato spiegato che sono state invitate insomma a vedere dal mio punto di vista rileggere dal mio punto di vista le voci biografiche che ok che sono state presentate fin qua il mio punto di vista qual è allora il mio punto di vista non per eccedere nelle note biografiche ma giusto per capire qual è è il punto di vista di una persona con una formazione di studi classici che a un certo punto ha dovuto scegliere quale università fare diciamo andando un po' indietro nel tempo sceglievamo con molta meno cognizione di cause molte meno informazioni di quante gli studenti non ne abbiano oggi forse in eccesso e allora proprio in quell'anno la Bocconi aveva creato un nuovo corso di laurea che si chiamava discipline economiche sociali e che si aggiungeva al tradizionale corso di economia politica e di economia aziendale e il nome di questo corso a me piaceva nel senso che mi sembrava ad essere l'opportunità di coniugare la formazione umanistica con le discipline economiche allora dietro il nome discipline economiche si nascondeva il fatto che per i primi due anni si faceva esami di analisi di statistica e di econometria quindi la parte sociale me la sono scordata anche la parte di economia politica perché l'economia politica era un'altra cosa nei successivi due anni ho avuto una crisi di rifiuto perché ero sopravvissuta ma ho avuto una crisi di rifiuto mi sono ributta sono tornata alla mia passione le discipline umanistiche che in quel corso di laurea erano la storia moderna la storia contemporanea la storia economica non esisteva ancora la storia dell'impresa né si insegnava la storia dell'industria sebbene si fosse in bocconi approfondimenti che poi ho avuto modo di fare nelle mie ricerche nelle mie ricerche successive questo per dire che cosa che il mio punto di vista è molto fortemente come diceva il professor Romanelli quello della storia dell'industria e in particolare quello della storia dell'impresa e in particolare quello della storia dell'impresa industriale con una come dire definizione iniziale che è fondamentale che cosa è nei miei studi l'impresa che cosa è da un punto di vista storico l'impresa io vedo l'impresa come l'impresa manifatturiera e quindi distinta da quella distributiva l'impresa manifatturiera che produce beni come e la sua storia come la storia del luogo in cui le idee diventano prodotti è solo questo e trasformare le idee in prodotti vuole dire che dentro quegli spazi di produzione insieme a quelle macchine insieme a quella storia della tecnologia insieme a quella storia degli uomini della forza lavoro degli imprenditori le idee prendono forma cioè si coniugano con la materia prima e diventano degli oggetti tridimensionali passano dallo stare nella testa della gente all'avere una rappresentazione bidimensionale su un foglio a diventare un oggetto tridimensionale prendono colori altro grande filone della storia dell'industria e delle imprese come dai colori naturali si è passato ai colori artificiali che consentono di riprodurre beni con di colori sempre tutti uguali cosa che con i colori naturali non è possibile lo tieni solo mettendo dentro le cose nello stesso bagno poi cambia bagno è un'altra un'altra sfumatura di colore e e dunque i prodotti come cose che incorporano tutto questo una storia della tecnologia storia di uomini storia di macchine storia di luoghi di produzione storia di forza lavoro storia di imprenditori e così via allora fatta questa premessa che cosa ho diciamo qual è il filo comune che io ho visto in questi in questi interventi in queste biografie di creativi in cui la dimensione dell'impresa la dimensione imprenditoriale e dei luoghi di produzione c'è ma è come dire un po' da sfondo perché qui è la biografia del biografato ecco non dell'impresa è la biografia di una persona che ha un nome e un cognome allora in queste io ho individuato come dire mi sembra di aver individuato tre dinamiche di lunghissimo periodo che prima o poi la moda italiana non solo quella italiana ma su quella italiana ci concentriamo in particolare si è incrociata e quando si è incrociata ne sono venute fuori delle cose molto interessanti delle innovazioni molto interessanti allora queste forse c'è qualcuno che si sei più bravo di me no è proprio ah ok allora dunque qui si va avanti no qui si va indietro ok allora queste tre dinamiche sono la prima è quella di che differenza c'è tra l'impresa industriale e l'impresa artigianale l'impresa artigianale può essere l'atelier per esempio allora tutte e due fanno la stessa cosa che ho appena detto cioè trasformano le idee in prodotti l'impresa industriale con un vincolo fondamentale che è dato dalle economie di scala cioè si incomincia a far prodotti a far profitti solo da una certa soglia di produzione in su se stai sotto quella soglia che vuol dire volumi di produzione prima o poi muori perché non fai profitti non generi profitti e da qui quindi un problema di replicabilità cioè il prodotto industriale è un prodotto che presenta oggi ne chiamiamo in termini non solo oggi standardizzazione però è un prodotto industriale non è il prodotto artigianale esclusivo che conta un solo prototipo un solo come dire una sola creazione no c'è il prototipo c'è la creazione e poi da lì si incomincia a replicare la seconda dinamica di lungo periodo che mi sembra di intravedere in queste biografie a partire da quella di Rosa Genoni che ci offre la prospettiva di partire da molto in là è che il concetto di lusso è molto cambiato nel tempo ed è cambiato facendo dei salti di discontinuità quando ci sono stati di questi salti di discontinuità per cui il lusso si è riposizionato verso l'alto del mercato si è creata la possibilità di segmentazione del mercato cioè per nuovi competitor e per nuovi modi di produrre moda di entrare sul mercato la terza dinamica è quella della catena del valore cioè da un certo punto in poi l'impresa industriale ha visto contendersi il proprio ruolo dell'innovazione con l'impresa distributiva e questo è un aspetto molto contemporaneo adesso semplicemente il mio intervento intende attraverso alcune immagini esemplificare questo concetto allora prima immagine che cosa vuol dire replicabilità che noi produciamo è vero tanti prodotti tutti uguali sono i prodotti industriali per il mercato di massa e la moda in molti ambiti non è esente da questo ma il concetto di replicabilità è un concetto molto più profondo che cambia la macchina si applica innanzitutto alla macchina prima ancora che al prodotto e qui vediamo che come si applica cioè passo da una ruota per filare da un fuso per filare a cui si applica una unità di forza lavoro a una serie di fusi per filare tutti uguali fra loro montati sulla stessa macchina allineati in orizzontale allineati in verticale che producono un prodotto tutto uguale e passo dentro la fabbrica ad allineare tante macchine che montano tanti fili tanti filati tanti fusi tutti uguali tante macchine tutte uguali in orizzontale e in verticale dentro la macchina e passo alla fine a un'architettura industriale che è quella che oggi vediamo in molta archeologia industriale ma anche negli impianti produttivi nuovi che è che cosa replico l'unità produttiva dentro alla quale ho messo tante macchine tutte uguali allineate che montano tanti fusi tutti uguali allineati le replico tutte uguali una accanto all'altra cioè replicabilità è una questione che non riguarda solo il prodotto riguarda la cultura della produzione ed è un concetto che ci portiamo dalla rivoluzione industriale inglese o dalla fine del settecento fino ad oggi è profondamente radicato tant'è che non ci pensiamo più ma non è la standardizzazione del prodotto è il concetto della unità che si ripete uguale a se stessa dentro la macchina dentro l'impianto produttivo fuori dall'impianto produttivo dentro lo spazio produttivo concepito come extra fabbrica questo è fondamentale nel senso che quando si parla di moda e impresa quando si parla di moda e industria non si può prescindere da questo caposato se produciamo prodotti standardizzati è perché la nostra forma mentis della produzione e dei modelli organizzativi di impresa si è trasformata come questa storia va a incrociare la questione della moda allora dicevo è una storia che inizia alla fine del settecento ma l'industrializzazione in particolare del tessile in particolare del cotone che è la fibra che più si presta alla meccanizzazione se mettete la lana nei telai di prima generazione la lana si rompe non riuscite a rompire una fibra animale quindi si spacca ad ogni tensione della macchina e le macchine di quel periodo di strattoni ne davano tante quindi prima di tutto il cotone e si industrializza il cotone ma la rivoluzione industriale dall'Inghilterra come sappiamo sanno bene i storici economici arriva presto anche in Europa si diffonde e quando nella Francia che è uno dei paesi che per prima recepisce le innovazioni industriali arriva agli inizi dell'ottocento dopo il blocco napoleonico di Napoli dopo il blocco continentale di Napoleone quindi dal 1815 in poi si diffonde molto rapidamente a metà dell'ottocento in Francia abbiamo già acquisito tutte non così in Italia per esempio abbiamo già acquisito tutte le innovazioni tecnologiche più importanti compresa il modello della replicabilità la Francia è un paese molto ricco ed è diciamo così il terreno ideale per la nascita della cosiddetta dell'occutura allora l'occutura segue una strada completamente diversa da quella della replicabilità no affatto è considerato padre dell'occutura questo signore che si chiama Ward che peraltro è un inglese che lavorava però in Francia nei grandi magazzini francesi che si guadagna le simpatie delle corti delle più importanti corti francesi e non ed europee dell'epoca e che cosa fa produce questi abiti questi abiti sono il simbolo dell'occutura del tempo piacciono ai francesi piacciono soprattutto anche agli americani infatti oggi la collezione di Ward una delle collezioni più numerose sta proprio a New York questo abito uno guarda dice fantastico esempio di produzione di un atelier Ward che cosa fa produce col criterio della replicabilità dei corpi delle strutture di abito che poi differenzia a seconda della cliente a cui li vende attraverso i tessuti il drappeggio dei tessuti attraverso l'aggiunta di come dire nastri tulle decorazioni di tutti i tipi ma la struttura dell'abito su cui monta queste cose è una struttura assolutamente industriale e la cuccia con la macchina da cucire non la fa cucire a mano alle lavoranti quindi sfrutta le innovazioni dell'industrializzazione le sfrutta quelle che vediamo là è un'immagine di un abito di wolf in un famoso dipinto di Renoir lo indossa Madame Charpentier che è la moglie di uno dei più importanti editori dell'epoca in Francia siamo alla fine degli anni 80 nel loro interno parigino sembra che Madame Charpentier abbia due figlie invece no uno di quelli di quei due che vediamo rappresentati è un bambino sono fratello e sorella ho scelto questo dipinto per dire che lì la moda si sposta sull'immagine femminile a tal punto come rappresentazione della ricchezza dell'uomo del padre del fratello che i bambini fino a una certa età non hanno una differenziazione di genere si vestono tutti sul modello della mamma che siano maschi o che siano femmini e il mercato è quello in quel momento Worth per tutta una serie di ragioni detta il nuovo standard del lusso il nuovo standard del lusso cioè abiti che siano personalizzati attraverso questa tecnica andiamo avanti di 50 anni che cosa succede? succede che durante la seconda guerra mondiale e durante anche gli anni tra le due guerre la Francia soffre moltissimo della crisi del 29 la Francia poi soffre moltissimo dell'invasione durante la seconda guerra mondiale nel 1948 riemerge da una storia molto complessa e che cosa fa Dior con il new look? di nuovo ridefinisce lo standard del lusso in quel momento che cos'è? buttarsi indietro le tristezze del periodo tra le due guerre il tristezze della seconda guerra mondiale tornare all'opulenza l'opulenza che è data innanzitutto si deve manifestare e quindi è data innanzitutto dall'enorme quantità di tessuti che si usano tessuti naturalmente preziosi che si usano per costruire gli abiti guardate l'analogia che c'è fra questo presentazione del new look e la sfilata di Giorgini a Palazzo Pitti nel 1951 questo ci dice quanto è l'immagine del lusso fosse quella imposta da Dior e vedete quale differenza c'è fra quella sfilata e quella del 1983 a Milano nella fiera di Milano posto che più commerciale e disadorno di così non ci può essere cioè il contesto è quello è un capannone diremmo è un prefabbricato all'interno del quale sfilano i designer milanesi cioè che cosa si è creato new look Giorgini hanno spostato in alto hanno comunque ridefinito il concetto del lusso e nel diciamo nello spazio del mercato rimanente arriva il nuovo competitor il nuovo competitor non è Firenze non è Roma che rappresentano la moda di francese è la rielaborazione originale creativa del tutto nuova italiana della moda francese che si emancipa addirittura dalla moda francese ma il nuovo competitor cos'è la moda pronta di Milano il pret-à-porter di Milano e qui si inserisce questo mi dà l'aggancio per due cose il primo per dire che cosa che siamo in una fase della produzione della moda assolutamente industriale molti dei capi che sfilano a Milano sono prodotti dal gruppo GFT di Torino che è chiamato la Fiat dell'abbigliamento giusto per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando e quello è un esempio di scheda di messa in produzione industriale di una scheda di un disegno di un bozzetto di unguero cioè abbiamo le misure abbiamo i campioni di tessuto di fianco c'è una scala che rappresenta le come dire le possibilità alternative di realizzazione di quel bozzetto molti di questi bozzetti sono entrati in produzione e non hanno mai dato esito ad una collezione perché sono falliti sono abortiti la storia dell'industria insieme alla storia della moda ci consente di vedere anche la storia delle idee che non sono mai diventate prodotte moda pronta per far per dire che cosa facciamo un salto indietro questi sono i grandi magazzini in cui lavorava francesi un'innovazione commerciale in cui lavorava Wors l'esempio dell'eleganza oggi il rinascente che nasce con i magazzini bocconi sono sempre loro quelli dell'università alla fine dell'ottocento due fratelli che si rendono conto di quanto manchi in Italia una cultura commerciale quindi fondano un'università commerciale per formare i venditori commerciali rinascente oggi che cos'è non ha più nulla a che fare con il grande magazzino rinascente è un'operazione immobiliare di shopping shop di corner di marchi che noleggiano acquistano affittano spazi ci mettono dentro il loro personale di vendita i loro prodotti sono una diciamo riproduzione su scala minore dei flagship store ma sicuramente l'innovazione commerciale è Zara e Zara è il nome di fast fashion lo identifichiamo col fast fashion cioè dalla moda pronta siamo passati al fast fashion che questa sia moda questo è un altro discorso però sta di fatto che il signor Zara che cosa fa va alle sfilate di moda copia quei modelli e li mette in produzione molto più rapidamente dai normali tempi della replicabilità cioè replica ancora molto più velocemente di altri e a tal punto che questo nuovo tipo di moda si chiama fast fashion e la dobbiamo chiamare moda perché si chiama fast fashion che cosa vuol dire questo che in parte l'innovazione si sta spostando si è spostata nel corso del tempo dalla fine dell'ottocento ad oggi dalla impresa manifatturiera all'impresa commerciale qual è l'ultima reazione a questo fenomeno si chiama si now by now ed è stata introdotta negli Stati Uniti alcuni in Italia la stanno adottando che cosa vuole dire vado alle sfilate a questo abba dal fast sono passata a si now by now ho azzerato il tempo e già e negli Stati Uniti so in Italia sono stata rapida sono andata un po' di corsa perfetto si now by now io corro noi adesso raccogliamo tante tante idee e do la parola a Stefano Laminella che anche lui è stato molto molto legato ad una ad un nome e a Tiloni ma ha anche molti altri luoghi nel campo sia nel campo interditoriale sia in quello accademico o didattico quindi è un ottimo punto per mettere in collegamento tante cose che sono difficili grazie grazie professore buonasera a tutti allora oggi tra tutte queste biografie straordinarie veramente è musica per le mie orecchie il mio intervento dovrebbe basarsi un po' sulla Hollywood sul Tevere che io detesto alla quale non credo di cui ho sentito 150 milioni di versioni che ci raccontano una favoletta una favoletta assolutamente avulsa dalla realtà da una parte e dall'altra non mai considerando il contesto di quel momento di quell'epoca di quello che accadeva in Italia in quel periodo perché la Hollywood sul Tevere poi arriviamo a Fernanda Gattinoni dove naturalmente mi è molto più facile e familiare la Hollywood sul Tevere nasce per il piano Marshall e per una signora l'ambasciatrice Claire Botlouce che nel 1948 fu insegnita del ruolo di ambasciatrice americana in Italia e lei fu appunto una delle sostenitrici del piano Marshall per cui lavorò e arrivando in Italia decise di applicarlo come esempio in Europa proprio partendo da Roma quindi cosa fece riuscì a mettere insieme i grandi gruppi le grandi major americane del cinema con Cinecittà con la De Paulis e con un'altra azienda che non esiste più la Faroni sulla via Pontina dove invitò le major americane a venire a produrre e a girare dei film in Italia a basso costo quindi la Universal la Metro Golden Mayor la Cassians vennero in Italia e iniziarono con il produrre prima dei film storici e poi proprio il vero e proprio cinema hollywoodiano in Italia costava molto meno siamo nell'immediato dopo guerra nel 48 49 e 50 quindi le grandi star e i grandi registi americani vennero a girare i film a Roma Ava Gardner Kim Novak Elizabeth Taylor e via discorrendo vennero appunto a soggiornare per dei periodi molto lunghi a Roma quindi iniziarono a frequentare gli atelier di moda di allora sorelle Fontana la storiella famosa del vestito di Linda Christian perché di solito l'inizio del Made in Italy parte da quell'abito con le maniche a prosciutto che le sorelle bravissime Fontana costruirono per Linda Christian e quell'abito veramente fece il giro del mondo ma prima di quell'abito già molte attrici venivano pubblicate su Herbs Bazaar su Vogue America vestite con la moda italiana così le signore americane della piccola grande media borghesia degli Stati Uniti scoprirono che a Roma c'era un nucleo di giovani non li chiamiamo stilista perché il termine stilista dobbiamo arrivare alla fine degli anni 60 per poterlo coniare poi il primo fu Walter Albini che si può veramente definire con questo termine ma si chiamavano Sarte o Sarti o Creatori di Moda in questa situazione si inserisce la storia di Fernanda Gattinoni che è una storia un po' anomala perché Fernanda Gattinoni in fondo è un personaggio molto poco conosciuto di Fernanda Gattinoni se non dei bruttissimi libri che tra l'altro abbiamo tra virgolette diseredato se ne sa molto poco ed è una storia invece lunghissima Fernanda Gattinoni è un po' una precursrice delle femministe da una parte e delle imprenditrici dall'altra non era sarta quindi non tagliava e non cuciva la sua esperienza veniva appunto dal 1927 quando si trasferì a Londra pensate una ragazza di 20 anni che va a lavorare di una famiglia borghese piccolo borghese di Cocquio Trevisago un paesino in cima alle montagne sopra a Varese si va a Londra giudicata folle da tutti i parenti va a Londra e riesce ad entrare come apprendista non c'è un termine che la definisce in quel ruolo nell'atelier Molina l'atelier Molina era il più grande atelier inglese di quell'epoca tra l'altro era la maison che serviva casa reale quindi piano piano entra timidamente in questo grande atelier che era un palazzo di cinque piani con oltre 150 dipendenti dopo tre anni diventa mademoiselle nell'atelier Molina mademoiselle era quella figura che oltre ad occuparsi della cliente rivedeva e rifaceva un po' i modelli della sfilata quindi la cliente vedeva un abito nero con le maniche lunghe ed un ricamo qua però diceva no il ricamo lo voglio da tutte e due le parti la manica la voglio corta e sopra voglio un coprispalle e quindi la Gattinoni metteva insieme questi pezzi e seguiva poi la cliente finché l'abito non era pronto e consegnato nell'atelier Molina Fernanda scopre un mondo conosce Mae West Mary Pickford più tardi Claudette Colbert va al palazzo reale va al palazzo reale perché gli abiti della regina Vittoria erano appunto creati da Molina quindi assiste alle prove della regina in punta dei piedi racconta con un abito di velluto blu senza potersi muovere per cinque o sei ore e gli insegnarono entrando a palazzo a fare l'inchino alla regina Molina apre il suo atelier a Parigi e trasferisce Fernanda Gattinoni nell'atelier Molina a Parigi che però ha una vita molto breve la Gattinoni torna in Italia per un problema familiare e dopo pochi mesi entra a Milano nell'atelier Ventura l'atelier Ventura a Milano era il massimo che avevamo in Italia intorno a metà degli anni trenta veramente era la casa di mode per Antonomazia casa di mode del generale Ventura anche dal generale Ventura la Gattinoni entra con il ruolo di prima di seconda mademoiselle perché la prima mademoiselle era madame Anna il personaggio mitico della moda di quegli anni voi tutte sapete chi era madame Anna e cresce con la scuola di questa madame Anna una scuola ferrea di una donna terribile un generale bravissimo una donna terribile che veramente bacchetta con una con una specie di spadino di bambù che aveva bacchettava le mademoiselle per i piccoli errori che potevano commettere Ventura apre il suo atelier a Roma nel 36 e trasferisce Fernanda Gattinoni a Roma insieme a madame Anna e questa volta diventa prima mademoiselle dell'atelier quindi ha il massimo riconoscimento che si può avere anche se l'atelier di Roma racconta Fernanda era considerato da Milano dall'atelier Ventura di Milano un po' l'atelier degli scarti se c'era un abito che non era riuscito bene o un po' pacchiano o un po' troppo forte perché c'erano troppe situazioni espletate su quella no mandatelo a Roma mandatelo a Roma lì c'è la clientela giusta quindi questo per inquadrarvi un po' il sistema e la mentalità a Roma Fernanda ebbe nell'atelier Ventura un successo enorme cominciò ad entrare in amicizia appunto con le Barberini le Sciarra Torlonia con tutta la nobiltà ma soprattutto con Edda Ciano tant'è vero che quando si proclama la guerra e tutti persino le sarte dell'atelier Ventura e tutto il personale corre a piazza Venezia a sentire il discorso di Mussolini in atelier resta Madame Anna la premier Fernanda Gattinoni Edda Ciano che non va a piazza Venezia ma va a provare un palto nell'atelier Ventura sente alla radio che tenevano accesa tu la sai tutta come me allora la potevamo sente il discorso e si porta le mani alla testa e dice mio padre è pazzo questi sono questo che vi dico sono chiaramente i racconti di Fernanda io ho vissuto con Fernanda Gattinoni da quando avevo 17 anni perché ero compagno di scuola di suo figlio Raniero fino a che Fernanda si è spenta quindi ne ho sentite un po' di tutti i colori Fernanda era un personaggio una donna molto forte una donna però molto molto riservata una donna nevrotica per il lavoro pensate che si è sposata a oltre 40 anni ha avuto suo figlio Raniero a 41 e si è separata a 43 quindi aveva fatto proprio del lavoro la sua unica ragione di vita con Claire Bottluss di cui divenne molto amica tanto che ebbe l'onore di conoscere tra l'altro Frida Kahlo che fu ospite nel 49 di Claire Bottluss a Villa Taverna con Claire Bottluss iniziò ad avere una clientela internazionale a 360 gradi quindi oltre ad una clientela consolidatissima di signore piccolo borghese mogli di nuovi imprenditori palazzinari tutto quello che vi immaginate in un dopoguerra romano che cresceva e che cresceva nel bene e nel male però c'era bisogno di farsi di darsi una facciata nuova oltre alla nobiltà quello che rimaneva che si era portata praticamente d'avventura iniziò ad avere una clientela americana pazzesca pensate che l'atelier Gattinoni nel 1959 fatturava 150 milioni di lire aveva 95 persone in uno spazio di 850 metri quadri quindi una piccola industria un'industria d'artigianato perché per Fernanda la parola d'ordine era il fatto a mano tutte le sue esperienze da Moline a Ventura e via discorrendo l'avevano inquadrata in un senso di artigianalità portato all'ennesima potenza nel 1956 inizia la sua storia nel 1945 a porta del popolo dove ora ci sono i carabinieri lì apre il suo primo Ventura chiude nel 43 nel 45 insieme a Madame Anna di cui poi si separerà nel 46 perché insieme in un'impresa di lavoro era diverso che in un'azienda come Ventura insieme le due grandi personalità cozzarono e quindi si separarono anche perché Madame Anna nel frattempo aveva già superato gli 80 quindi apre nel 45 a porta del popolo la sua prima cliente fu Clara Calamai Clara Calamai per la quale creò un palto di lana verde con un collo di renar grigio questo renar grigio nel 45 non si poteva avere facilmente e Fernand iniziò a tingere la pelliccia dentro una vaschetta grande così come si faceva con il cuoio con la stessa con la stessa tecnica delle tinture del cuoio con la Calamai fece il film di Visconti Ossessione e lì iniziò appunto la storia di cinema e Gattinoni che continuerà con Rossellini per tutti i film di Ingrid Bergman in Italia fino al 1966 Fiore di Cactus quello con Walter Matao quindi la Gattinoni diventa amica e veste Ingrid Bergman da Stromboli Terra di Dio fino a Europa 51 a Natale Ascia e via discorrendo fino a Viagginitalia 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 certo ah sì io l'ho visto 6500 volte quindi fino a Fiore di Cactus del 66 una storia carina è quella tra Ingrid tra la Gattinoni la Bergman e Anna Magnani perché la Gattinoni era la Sartoria di Anna Magnani che quando seppe che Rossellini aveva portato la Bergman dalla Gattinoni disse sì sì l'ha portato da quella Sartina quindi la Magnani per circa dieci anni scomparve dall'atelier tornò dopo alla fine degli anni 50 si riconsolidò l'amicizia con la Gattinoni e Kim Novak e Ava Gardner ed Elizabeth Taylor insomma chi più ne ha più ne metta veramente l'atelier era diventato il fulcro oltre che di attori di attrici di registi anche di artisti Buttuso frequentava con sua moglie Mimset normalmente l'atelier e così anche Capogrossi con cui la Gattinoni fece una collezione ed una produzione di camice e cravate prese appunto elaborate proprio dai disegni di Capogrossi nel 1956 Maria De Matteis gli chiede di fare con lei di creare con lei gli abiti del film Guerra e Pace con Audrey Eppur il film Guerra e Pace diventa uno dei simboli dello stile della Maison Gattinoni lo stile impero dove la Gattinoni ebbe un'intuizione molto moderna molto forte non fece costume io lo faccio ma non facciamo i costumi se no vai da Tirelli che sono molto più bravi di noi faremo degli abiti per Audrey per Anita Eckberg degli abiti sullo stile impero di quegli anni ma abiti non costume e così fu e quest'idea valse una nomination all'Oscar a Maria De Matteis e alla Gattinoni il film ebbe un successo che sapete fece il giro del mondo quindi il business e gli affari dell'atelier Gattinoni diventarono veramente molto 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 importanti Fernanda Gattinoni non volle andare a Firenze da Giorgini lui venne più volte venne più volte a dirgli ma Fernanda c'è Tizio c'è Caio pensate che la Gattinoni se gli dicevi conosci Fernanda le sorelle Fontana lei diceva sì loro mi conoscono quindi la tensone non tanto con Schubert perché Schubert diceva era un matto però creativo era con le sorelle Fontana con cui si dividevano veramente il society italiano e di internazionale ma soprattutto la Gattinoni il suo punto forte del suo business erano le signore americane che venivano in Italia a fare l'abito d'alta moda verdino rosellino ciclamino interamente ricamato o l'abito come quello di Audrey Apple ebbe la nomination all'Oscar e fu un momento di grande gloria poi tra le tante collaborazioni con i disegnatori dell'epoca ebbe anche una una relazione con Walter Albini Walter Albini prima di mister Fox quando ancora faceva dei disegni e li vendeva alle sartorie come si usava allora perché Guido Pascali Chino Bert Valentino stesso facevano delle bellissime illustrazioni che venivano acquistate dai vari atelier che poi le modificavano a loro modo e nel loro stile e li creavano tra le ienne appunto ci fu questa relazione con Walter Albini Fernanda Gattinoni continuò la sua attività fino alla notte prima di morire con il suo cane nero un barbone gigante arrivava in atelier alle otto e mezzo e andava via alle otto e mezzo di sera questo fino a 98 anni parlando tre lingue al telefono inglese francese e spagnolo correntemente e arrivammo noi Raniero e Dio che non arrivammo subito all'alta moda anzi aborrivamo l'alta moda l'alta moda era il vecchiume per carità di Dio Raniero contestava assolutamente contestava la moda creata da sua mamma e questo è normale succede nelle migliori famiglie perché aveva delle idee completamente diverse soprattutto era proteso al pret-à-porter io ebbi i miei primi inizi di moda prima da Mila Champ per un periodo molto breve e poi siccome non volevo stare a Milano eccetera veni a Roma ed ebbi la fortuna di entrare da Valentino che è stata un po' la mia scuola la mia accademia dove mi occupavo dei rapporti per il pret-à-porter della Maison Valentino con il gruppo finanziario tessile quindi ho rifatto insieme a Ermanno Cervino che era mio collega rifacevamo per evitare le furie di Giancarlo Giammetti e le ire al telefono con venivano spediti al gruppo finanziario tessile dei clocchi dei disegni elaborati da Valentino per il pret-à-porter il gruppo finanziario tessile li rimandava via telex e diceva improducibile troppo alta moda allora noi cominciavamo a togliere il pantalone palazzo plissè e mettevamo una gonna dritta lunga il ginocchio il ricamo che era qua e qua lo mettevamo da una parte sola eccetera e lo rimandavamo perfetto andava tutto bene arrivava il capo per il fitting a cui prendeva parte Valentino e diceva ecco voilà la semplicità con una questa è la vera bravura perché lì quello veramente bravo era proprio Valentino veramente la direzione di tutto e l'intuizione anche commerciale eccetera comunque veniva da lui poi perpetrata da Giancarlo allora dopo questi quattro anni da Valentino Raniero mi dice guarda cominciamo una cosa che fai lì dai vieni via facciamo una cosa insieme e in un piccolo appartamento a via Sistimna iniziamo a fare una collezione di pret-à-porter una collezione di pret-à-porter fatta da un giovane 27 26enne e da me quindi Raniero era un poeta si stava laureando in filosofia adorava Yogi Yamamoto e i sei migliache quindi con gattinoni proprio all'opposto quindi sicuramente le nostre collezioni avevano quell'aria di quegli anni siamo ai primi anni 80 82 83 certo non somigliavano al prodotto e all'immagine e allo stile altamodoso di Fernanda quindi quando andavamo al Modit Milano Vende Moda eccetera tutti venivano da gattinoni perché il nome era senz'altro molto attraente poi era un nome che nel pret-à-porter non era mai stato sfruttato però si trovavano davanti a delle collezioni di abiti con una manica sola oppure di volumi oversize insomma completamente diversi da quello che ci si aspettava dal marchio quindi l'inizio fu incerto e difficile fin quando nel 1989 decidemmo di unire le due aziende anche perché la gattinoni appunto era proprietaria di questo appartamento immenso che a noi avrebbe fatto molto comodo unimmo le aziende Fernanda ci disse che di lì a poco si sarebbe messa tranquilla e sarebbe andata a vivere un po' a Cocquio e un po' a Sabaudia dove aveva una bella casa e noi andammo a Via Toscana sede storica dell'atelier non fu così non andò mai né a Sabaudia né a Cocquio se non dieci giorni il mese di agosto perché il 27 dovevamo tornare ed essere tutti lì era un gendarme un gendarme straordinario con cui ho vissuto e sono cresciuto e quindi facemmo Pret-à-Porter rivedendo un po' le nostre posizioni tanto che il Pret-à-Porter cominciò ad andare molto bene fu prodotto dalla Daina International poi nel 1989 decidemmo di riprendere l'alta moda di riprenderla però con delle caratteristiche e con un'idea che fu geniale quella di creare una collezione come una sceneggiatura di un film e gli abiti erano gli attori e i protagonisti di questo film ma su una sceneggiatura raccontando quindi una storia questa iniziativa è la prima collezione che doveva essere unica una tantum per inaugurare il restyling dell'atelier eccetera ebbe un successo tale che non fu unica perché di lì a dopo mantenemmo l'atelier d'alta moda con le premiere allora già sessantenni ma straordinarie alcune delle quali ci sono ancora oggi ed è movita anche all'alta moda naturalmente Fernanda Gattinoni in tutto questo voi pensate beh si sarà scandalizzata di queste novità soprattutto arrivo al 1990 e poi finisco lo facciamo la prossima io ho 74 anni da raccontare quindi Fernanda Gattinoni non si stupi per niente assistente di Raniero entrò Guglielmo Mariotto e Fernanda invece di stupirsi applaudiva ed era felicissima di questo nuovo stile e di questo restyling che Raniero io e Guglielmo avevamo dato alla griffa qua mi fermo alla prossima puntata grazie mi sentite sì allora last but not least Clara Tosi con figlia farà una bella conclusione architetto e qui rientra tutto il discorso sull'architettura anche lei è un profilo che mi è difficile definire perché è stata didattica insegnato all'accademia del costume di gestione di artrice la facoltà di architettura insomma di gestione didattica imprenditrice di organi di artrice culturale curatrice mostre cataloghi l'impresa consigliere di amministrazione di alta moda insomma riuscire molti aspetti di tante cose che abbiamo detto allora diciamo che pur avendo poco tempo sono contenta di chiudere perché come sempre succede chi parla per ultimo ha l'opportunità di fare una sintesi no? cambiato totalmente quello che volevo dire vorrei iniziare subito da Stefano Dominella che è un amico una figura che io stimo moltissimo perché è una continuità della specie in questo momento noi assistiamo nella moda a tantissime evoluzioni e quanto mai sono importanti in questo momento dei libri come la moda è una cosa seria degli archivi delle enciclopedie che diano una connotazione storica critica autentica a qualcosa che troppo spesso magari è stato visto è stato letto in chiave superficiale e futile io sono architetto sono architetto mi sono laureata in una cosa che 30 anni fa in Italia non c'era si chiamava storia si chiama storia delle arti industriali è una facoltà con un professore che si chiamava Giorgio Muratore che è scomparso da poco famoso per quanto era antipatico sì 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 Giorgio era così sono cresciuta nel culto di Morris di Ethan Cole delle arti applicate e in Italia 30 anni fa quando noi parlavamo di arti applicate o io parlavo di arti applicate era come parlare un artigiano era come un contadino era qualcuno che lavorava con le mani e forse il merito più grande dopo la cucina che ha la moda in questo momento dove ci arrivano dei risultati in cui addirittura ha superato il petrolio come economia esatto è stato sdoganare qualcosa che è relegata a un'attività artigianale a qualcosa invece che fa la differenza in un bilancio in un'economia mondiale ripeto il discorso artigianale era veramente visto in secondo piano noi abbiamo sempre credo che un pochino ancora dobbiamo superare questo gap per un italiano dire che il vestito se l'era fatto da solo vuol dire che non hai soldi per comprarselo per cui c'è sempre stato questo rapporto con un qualcosa che io ai miei studenti dopo forse quattro lezioni riesco a farli confessare che la nonna era sarta quando cominciano a vederlo come qualcosa di affascinante allora funziona credo che il compito fondamentale che abbiamo noi che abbiamo stasera che forse cominciamo ad avere è far capire che quell'attività artigianale è una dignità così come lo fanno i francesi c'è un lavoro fatto a tavolino di cultura del prodotto di cultura che è diverso in tutta Italia abbiamo anche questa fortuna io non ho mai vissuto questa competitività da Roma a Milano ognuno ha il suo DNA ognuno ha la sua identità ritorno a Stefano quando io ho deciso di occuparmi di moda oltre a queste arti applicate ho unito l'altra mia grande passione non sono mai stata una fashion victim so mi ricordo poco quello che cambia quello che va di là però da architetto amavo Ferré perché vedevo i punti di fuga dei suoi vestiti era proprio un progetto quelle camicie bianche sono dei fogli di carta lucida per me che possono essere replicati interpretati l'altra mia grande passione era il cinema quando adesso ho nominato viaggio in Italia per me Fernanda Gattinoni incarnava quella figura che era stata capace come Hubert de Givenchy forse con la Hepburn per questo fa degli abiti e non fa dei costumi di fare la differenza i costumi si fanno i costumi sono filologici che ci si interpretano lei è la vera sintesi di quello che è la capacità di un haute couture e costume e moda e cultura internazionalizzazione di qualcosa che è solo forse romano è quell'hute couture che sta che mette anche paura a Parigi in un certo senso forse come idea perché ha detto benissimo Stefano come voi vi ringrazio avete detto benissimo avete parlato bene e in modo serio e rigoroso di qualcosa ha fatto luce su questa favoletta dell'Hollywood sul Tevere che è facile comunicare ma insomma poi chi va un pochino più a fondo la conosce la storia però sicuramente in quegli anni Roma è stata dal 47 in poi è stata la città dove passava tanta gente pensando di andarsene invece ci rimaneva a Roma da intellettuali a poeti e queste persone vivevano insieme e spesso e volentieri tanta sperimentazione che vediamo noi nasceva anche dal fatto che queste figure non erano artigiani c'era quel tipo di rapporto e c'erano queste donne come Fernanda penso anche a Anna Mode a queste signore con delle grandi capacità che erano in grado di interpretare quella cosa lì e tradurla e farla diventare concreta c'è una parola bellissima che ricorreva un po' in tutti voi che è visionari queste figure che avete nominato tutti e tre sono dei visionari vi voglio comunicare anche che vengo da Venezia col treno sono arrivata di corsa la moda si sta rilegando in modo però un pochino pretestuoso in modo strategico il padiglione Italia finanziato da Fendi Gucci Pino ieri ha fatto un grande ventone è molto diverso da come queste figure avevano a che fare con gli artisti da stare a mangiare insieme da condividere forse l'unica cosa che c'era e trovare soprattutto il modo per farlo in questo momento però è questo quello che il mondo chiede l'Italia diciamo che quel sistema chiarissimo di industrializzazione che è stato raccontato però è già superato cioè il lusso è lo storytelling è la storia di quel prodotto non è come viene fatto è il pezzo unico magari fatto male però ieri ho fatto un lavoro sto facendo un lavoro con questo signore che si chiama Bonotto Bonotto è l'autore a questa fabbrica chiamata la fabbrica lenta lui ha comprato tutti gli attrezzi tutte le macchine che erano in dismissione dalle altre fabbriche di tessuto perché voleva produrre con lentezza non con velocità ovviamente gli industriali cioè gli operai hanno detto oddio che siamo pazzi stiamo fallendo ce lo dica in modo chiaro e invece no lui ha fatto questo esperimento ora lui collabora con lo Juave i suoi tessuti sono meravigliosi non da ultimo per ritornare a quel modello romano è uno dei più grandi collezionisti di Fluxus e di altre opere contemporanee che stanno in fabbrica regolarmente non a casa quindi diciamo che stiamo arrivando in questo momento assistiamo anche al fenomeno Gucci Alessandro Michele è il primo forse dei visionari in questo senso non c'è nessun parametro forse un fornasetti è una sorta di ossessione di decor che come è successo in certi anni ci vuole far dimenticare una crisi in cui stiamo vivendo il sistema di vendita sta implodendo totalmente cambiamo questi designer come se fossero pedine perdiamo anche tutta perdiamo l'identità del brand perché io in questo momento posso parlare di Gattinoni di Stefano di Raniero a suo tempo e c'è un'evoluzione di una specie ma voi immaginate Valenziaga che è passato da Valenziaga a cui io mi inchino sempre ogni volta che lo nomino fino a questo Demnag Vasalia che è fantastico ma l'abbiamo chiamato in quanto guastatore non in quanto serviva qualcuno che smontasse una macchina allora noi stiamo assistendo a questi fenomeni a questa cosa forse io sono ottimistissima credo che Roma sia la città che ha più possibilità di interpretare questo momento proprio perché nasce da una forma anarchica e lontana dalle regole che non fossero altro di quelle di dire viaggio vedo capisco come avete citato voi mi viene in mente la Schiaparelli lo stesso che prende parte va a Londra ritorna non sapeva fare le cose Puarelli dice no sei brava attacca le lampo ecco diciamo che stiamo in quel mondo lì ora per cui se siamo capaci di interpretarlo se abbiamo un sano rapporto con gli artisti forse in questa situazione questo tipo di artigianato può avere delle grandissime chance dall'altra parte sono molto felice entusiasta che comunque a tutto ciò corrisponda perché comunque io insegno e comunque ai ragazzi gli dico sempre ragazzi la vostra forza è gravità non vi posso dire di frenare alla fine ma vi devo mettere dei paletti è fondamentale fare chiarezza essere seri dire esattamente storia dati perché purtroppo così come sono entusiasta di questa creatività credo che siano stati fatti dei grandi danni elogiando questa creatività to cure e quando mi disse mia figlia voglio fare una cosa con le mani ho detto vai mettere a posto la camera tua e poi capiamo e studia quello che devi studiare insomma ripeto è un argomento serio e importante ma che se ripristiniamo dei meccanismi di intelligenza artigianale come il progetto che poi ho messo in piedi forse riusciamo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille due paroline le vorrei dire anche se qui siamo con il tempo visto che mi avete un po' investito e poi sono lo sguardo all'estero tu sei la cugina d'America tre d'unione no io voglio dire una cosa diciamo che è importante negli Stati Uniti l'Italia c'è un amore incredibile diciamo per questo Made in Italy infatti scherzavo un po' prima con Natalina dicevo magari qui in Italia quando si sente parlare del Made in Italy sembra quasi uno stereotipo una parola e invece c'è un'attenzione fortissima ma anche a innovare il curriculum io vi dico stiamo lanciando un nuovo programma nell'autunno nell'ambito dell'Italian Studies di un certificate program che dura un anno che si focalizzerà sul Made in Italy io collaboro anche con il direttore dell'ICE infatti ci siamo incontrati lì l'anno scorso e abbiamo creato anche un accordo con internship cioè che quindi si guarderà alla cultura italiana in maniera interdisciplinare e per cui si guarderà alla maniera alla storia alle teorie al marketing e quindi alla moda e al cibo la moda e il cibo sono una cosa incredibile negli Stati Uniti gli americani stravedono per l'Italia cioè quindi questa cosa a volte gli italiani che stanno qui e che quindi la crisi e le cose io ve lo dico perché guardo un po' e quindi studio e per loro per loro e c'è anche un'altra cosa negli Stati Uniti allora questa è una cosa importante l'altra cosa negli Stati Uniti anche io sto dirigendo un progetto che è un progetto digitale e anche di mostre che faremo in autunno che si chiama Fabric of Cultures Object Memory in Technology che ha a che fare proprio in cui c'entra il Made in Italy perché c'è anche dentro e vi manderò le informazioni su questo ma è proprio il collegamento tra la mano the hand and the mind c'è un non so se conoscete questo lavoro di Richard Sennett che io ho fatto leggere ai miei studenti per intero e poi ho chiamato designer e artisti a venire a lavorare con studenti io tra l'altro insegno di università non è una scuola di moda ma secondo me capire il fare cioè proprio misurarsi così hanno portato una t-shirt la dovevano ricreare una designer da Brooklyn che ha tutto un laboratorio che si chiama Zero Waste perché c'è molta attenzione adesso negli Stati Uniti quindi una capitale come New York tecnologica a lavorare con le mani ci sono laboratori ci sono incubators quindi io vorrei vedere infatti io lavoro con queste persone qui e io vorrei vedere quindi magari chiedo a voi se in Italia ci sono c'è questo tipo di laboratori che dovrebbero entrare nelle università cioè che ci debba essere proprio si parla di ponti tra università territorio le brand cioè insomma che ci deve essere un laboratorio la cultura è una cultura del fare del pensare non si può immaginare senza avere queste interazioni perché? perché la rivoluzione digitale bisogna fare una battaglia bisogna fare le battaglie per esempio parlavi quindi c'è un'attenzione e c'è una grossa critica del fast fashion i miei studenti tra l'altro sono politicizzati enormemente alcuni di loro noi abbiamo fatto un convegno abbiamo fatto allora prima parte cose teoriche con grossi studiosi del rinascimento tra l'altro perché anche io ho tutto questo passato anche lì di lavoro di ricerca e poi abbiamo fatto un workshop in cui due mie studentesse hanno portato dei telai di legno e hanno portato jeans smessi che Raph Loren una ragazza che ci aveva donato e abbiamo fatto dei tessili per far vedere cioè era proprio una maniera per insomma per dire che cosa e poi il discorso sulla sostenibilità ci sono molte allora l'Italia ha una grossa potenzialità in questo momento visionari anche in senso negativo esatto perché la nostra io insegno all'università la sapienza e insegno a lettere con smento nella moda non abbiamo un laboratorio ecco e allora quindi tutto è teorico un giro manica una manica pipistrello una manica così ne parliamo è quello che sto a dire però posso dire una cosa a cui tengo tanto in questo proprio perché in questi anni ho lavorato tanto per l'artigianato a me piacerebbe che si arrivasse a una dignità dell'artigiano cioè io ho studiato architettura ma non ho mai fatto un muro so come era fatto so come si fa ma è l'artigiano che deve acquisire una sua dignità e questo è stato un altro gap nostro perché i francesi si chiamano mestietti il dottore architetto ingegnere e ha penalizzato la figura dell'artigiano io vedo i ragazzi compresi i figli che passano ore davanti a Masterchef o davanti al corso di pasticcere perché hanno bisogno di vedere far fare delle cose che siano concrete e hanno bisogno di rallentare i tempi anche certo ma infatti per questo è il ruolo degli educatori delle università e anche noi se vogliamo proseguire questo dialogo e quindi creare è importantissimo perché vuol dire di formare i curriculum di spiegare in essi perché i ragazzi a volte non li conoscono ci vuole un grande controllo della situazione specialmente nostro che insegniamo perché ripeto io anche ci sono altri libri tipo questi no anche le istituzioni le istituzioni sì ma bisogna stare molto attenti per questo insisto su di voi cioè ci sono altri libri tipo Sennet celebrazione era un manager ho lasciato tutto e adesso aggiusto motocicletta no c'è un hobby no perché arrivano anche dei messaggi dove a volte però diciamo che non è romanticizzare non siamo nell'ottocento io voglio dire solo un'altra cosa che rispetto anche a quello che dicevi tu c'è stata una mostra importante al Met l'anno scorso quella sulla appunto quella mostra di Bolton e beh insomma mostrava esattamente questo discorso cioè che la volta e poi mi dicevi tu la volta non è fatta a mano ma è la maniera in cui si manipola con la macchina e la mano e quindi è esattamente questo che voglio dire non romanticizzare l'artigiano in maniera romantica no ma capire in essi come ha fatto secondo me in maniera esemplare quella mostra curata da Andrew Bolton al Met è esattamente cioè questa direzione no per esempio ci sono è difficile spiegare un DNA Fernanda Gattinoni faceva le giacche sfoderate per Rossellini era una sarta guarda io stavo facendo vedere è sperimentazione è ricerca allora il mio ultimo libro che è su moda e cinema dal cinema muto alla grande bellezza e c'è un capitolo enorme proprio su Roma perché secondo me Roma è fondamentale per capire e il rapporto anche moda e città perché questa è un'altra cosa e c'è questa intervista inedita a Fernanda Gattinoni che io ho conosciuto nel 2000 quando lavoravo al mio libro sul fascismo e l'ho intervistata abbiamo avuto un lunghissimo questa intervista io me la sono tenuta per 15 anni nel cassetto perché secondo me non era in quel momento non c'entrava quello del mio libro sul fascismo e quindi me la sono tenuta e c'è questa storia anche bellissima come dici tu in cui le racconta come una ragazza che aveva sfidato cioè ed era andata una ragazza borghese è borghese infatti è interessante e diceva sfidato ma guarda che qui c'è un episodio straordinario che lei tanti anni dopo è andata a Londra e ha rincontrato la signora perché lei suonava l'armonio lei suonava l'armonio e lei faceva i costumi per il teatro e così che poi una piccola sana quindi no ma voglio dire ci sono delle storie però diciamo è per il futuro non per romanticizzare il passato è chiarissimo nel 1958 fece una collezione etrusca si chiamava tutta con materiali chimici con i primi gersi chimici della Monte Bianco quindi in alta moda che era una follia va bene è stato molto molto bene io mi sono divertito moltissimo io sono un esterno un estraneo un osservatore onnus però devo chiudere perché appunto poi ci sono i lavoratori che devono andare a casa a piedi se non sono ripresi i mezzi e forse a quest'ora qualcosa è ricompasso non lo so però vorrei soltanto dico solo che vorrei soltanto che la cosa non finisse qui tocca adesso voi curatrici tutti questi appunti verdi che hai preso perché dobbiamo fare un qualcosa sviluppare tutto ciò grazie mille grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi